Come dov'è? Eccoci Mamma mia il singoletto Il singoletto distruttivo Il singoletto piccante che ci fa paura Eccoci qua Ok Panico Ed è subito Gulag Ma di che parliamo? Buongiorno, buongiorno ragazzi Buongiorno Salvatore, buongiorno Stavolta sei il primo, incredibile Non è riuscito Gioele Di solito c'è Gioele che subito Prende, va Scrive Prondo Parte per primo Invece non è riuscito stavolta Vedere dov'è No Non ha scritto nulla Chi si dice? Buongiorno, buon pranzo Avete già mangiato? Io come al solito Ciao dopo mi saluti Giuliana Assolutamente, assolutamente Dove stai? Dove stai Giuliana? Ciao Giuliana Un bacione Da parte di Gabriele Buona domenica Buona domenica a tutti Buona domenica a Michele Buona Buona stagateca Navacciuolo Andiamo alla centrale Ma sono penso sicuramente In ritardo Infatti arrivano già dei team Sono già scesi Vabbè Mal che vada Si va al Gulag Signori Senza problemi Dai Chissà Do Harry Potter Che mi ha aperto Io non ho toccato niente Io non ho toccato niente Perché Harry Potter Mi ha aperto la stanza In teoria c'è gente Sì io ho capito Aspetta dammi un secondo E c'è gente che Campra nei dintorni Io mi devo arrabbiare Adesso Vedi che già si sparano Visto là che è successo E vabbè Io mi butto a mare No Saretta Ma la Saretta Che fa? Che fa già sveglia Di domenica Ora di pranzo Stai cucinando Ho detto che andavo al Gulag Mi ha sentito notare Sì ma io non l'ho mica Sentito sopra I passi In questo gioco I passi Dico io Non si sentiva Sul ponte Ma come si chiama Su laser Che ti gira l'arma Quando spari Eh Ci dobbiamo guardare Perché Ce ne sono vari Ce ne sono vari E Bisogna guardarci Perché c'è Sia laser Ah mi sono appena Svegliata Faccio schifo Ah perfetto Ciao ti saluto Violet Dov'è Falla venire in chat Falla venire Anzi Discord Così facciamo un po' di content Dov'è Attacco Discord Falla venire su Discord No Il rally L'arma L'intendeva Il laser Qual'era E mori Dopo è là il secondo Dai dai Muovite Muovite Fa tutto io Ah c'ha le piastre Blu C'è scusa Viola GG GG Io l'avendo trovato Compagno degno Mi piacerebbe Eh Ma mi vuoi mandare Pezzo di un toni Mi vuoi mandare Il video completo Di quella roba C'ho 29 secondi Soffro C'ho 29 Se mi hai mandato Solo 29 secondi Mandameli in privato Dove sta Ma posso avere solo Hanno pushato Hanno pushato tipo in due Tricole Con le doppie pistole Con laser Li ho distrutti Però sono Diverso il laser Che c'ho sulle doppie pistole Non è quello del ralla Non ce l'ho ancora Tutto livellato Il ralla Però è fortissimo Quel laser lì Mili senza sparare E a volte A volte fa parecchio male Che stanno a scrivere questi? Buongiorno Buongiorno Emiliano Buongiorno Come web nemico Zio E da dove l'hanno tirato? Oh my god I'm so good With time assist Ma vabbè La gente sta scrivendo in partita Vabbè Sono pazziti Titi Guarda che bel bug C'erano le cose in volo Allora E' un problema C'ho la missione da fare A 300 metri Dai Dai Che palle Che non mi corre il PG Cioè non mi corre il Il benedetto signore Del joystick Che è rotto Magari domani Mi arrivasse già il nuovo Vabbè Non vuole scendere Non riesco a capire Quali sono le pistole E sono le prime Sono le prime Le P8 Le primissime Le P890 Se non vado errato Vabbè Me ne vado Non lo vedo questo Dov'è Poi devo fare la missione Mi servono i soldi Per fare il loadout Ah Non ti fa stavalcare qua Titi Vabbè Diciamo che Sicuramente Gli autoscontri Sono forti A guidare no? Invece no Sono uscito E alla fine Sono uscito Aiuto a fare qualche win Che gioco solo Non so neanche come Chiamarli Chi è come chiamarli Chi come chiamarli Io mo sto facendo qualche singolo Dopo famo qualche partita Faccio qualche singoletto E poi Se c'è qualche sostenitore Faccio qualche partita Dai La miglior mitraglietta Si Fennec Oppure anche la Vaznev Non è male Però la Fennec Fa più male Per mettere doppie Devi andare su impugnatura Devi avere la pistola Tutta livellata Oh ma guardate Aspettate Qua non si può passare Dai una via veloce Per andare a fare Sta missione Qui qua Bella Alessandro E basta che le livelli tutti A livello massimo 28 Mi pare 29 Impugnatura C'è scritto doppia arma Vamonos Vamonos E uno Lo faccio dopo Questa è la cassaforte Dai non è uscito niente Giura Poco Mamma mia che schifo Se uno fa ste missioni Non trova niente Vabbè Cos'è sta roba Eh No vabbè Tant' alla fine Ce l'ho le cose In realtà Mi serve solo Il loadout Ma che Mascara dorata Che culo Mi ha fatto vincere Il singolo L'altra volta 15 kill No Quei random Non si riesce a giocare Bello L'erre No Però C'è sto mirino Mannaggia C'ho l'arma rotta Vediamo se mi cambia il mirino Oh È l'arma Voglio dire L'analogico rotto Meno male che ha cambiato Allora avrei dei soldi What? Si è fottuto la mia No No Si è fottuto la mia Auto Zio Ah L'avevo quasi preso Delinquente Delinquente Infame La mia auto Infame Infame Mo lo inseguo Che è andata La pompa di benzina Con la mia auto Penso proprio di sì Eh sì Infame Infame Delinquente Godo Eh Bruno Buona domenica Buona domenica Avete già pranzato Regà Dai Dov'era? Non l'ho visto Assurdo Non me posso girare Vabbè Vabbè Primo singoletto Peccato Ah ci sei anche tu? Allora accendete Accendete Mi faccio l'ultima In singolo Sì sì Possiamo approfittare Giochiamo un po' Con i sostenitori Ne approfittiamo Che tu Salvatore Non hai giocato Mercoledì Ehm Approfittiamo Dai dai Mi faccio l'ultima In singolo E poi Entrate Ci facciamo Qualche partita Con i sostenitori Iniziate ad accendere Iniziate ad accendere Io mi faccio l'ultima In singolo Chi è che mi ha scritto qua? Ho paura del tizio Mi ha iniziato a seguire Chi è che mi ha iniziato a seguire? Allora Fermi Il tizio chiama Dami Dami Ehm Ha un turban In destra Metal worker Meccatronic operator Ma in che senso? Cos'è il Meccatronic operator? What? Non ho capito Qualcuno sa cos'è il Meccatronic Regà Mi ha iniziato a seguire Uno che in mio grafico C'è scritto Meccatronic Aspettate Meccatronic 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 io penso Che ti Ti rifai I pezzi Meccanici addono Aspettate Meccatronic operator Che roba è regà? Boh Se qualcuno lo sa Non ci ho capito niente Buongiorno Buongiorno Parla domenica a te caro Da sta Uah no Sabbie Eccoti qua Oh a te te becco Solo la domenica Sei libero solo di domenica Bella Sabbie come stai? Buona domenica Buona domenica a te caro Bella Luca Ti ho salutato Sì Penso di sì Io ci sono Ok Bruno Allora faccio questa E poi entri tu Salvatore E Antonello Buon pomeriggio Buon pomeriggio lupo Ti vedo sempre al top Ti seguo sempre Bella Enrico Buon pomeriggio anche a te Buon branzo Buona domenica Buon Natale Intanto ci siamo vicini Preparate l'attrezzatura Manca poco Questa qua è la B sole Quelle doppie cose Questa qua è la P90 Eh P90 Aspetta P P8 Poi c'è la possibilità Di scrivere in partita Adesso Però boh A volte scrivono cose sensate A volte scrivono solo insulti Allora il meccatronico È il meccanico di oggi Ah Si chiama meccatronico Non più meccanico Che ha a che fare Più con l'elettronica Delle auto Che con la meccanica Ah Cioè Io lo chiamo ancora Elettrauto Adesso non si chiama più Elettrauto Si chiama meccatronico Vabbè 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 A me meccatronico Mi ricorda più qualcuno Che magari Che ne so Hai perso Un braccio Una gamba E ti fa Il pezzo Meccanico Per sostituirti Vabbè Qua stiamo viaggiando Nel futuro proprio Però mi ricorda più Una roba del genere Se ce l'hai Cioè se io penso Meccatronico Penso più qualcuno Che ti sa costruire Un arto Che hai perso Meccanicamente Un saluto a Praga Qui si va di birra e gnagna Che cacchio ci fai a Praga Metti la live Dentro il bar Metti la live Buongiorno Ricola Buongiorno Un abbraccio a Rizzolo Lui Riccardo E tutti i vecchi della guardia Non lo so se ci stanno No non ci stanno No se no avrebbero scritto Non ci stanno Ah sono passati di livello L'elettraudo L'elettraudo è passato Di livello superiore Ok Madonna Non avete idea Della gente che c'è Fatto uno Che arma avevi trovato qua No lanciapatate Non ci credo Giura che hai trovato Il lanciapatate Erano scelte Almeno sette per su Dove sono? Vabbè Entro in casa Spacco bottiglia Eccolo il ralla Dimmi che quello lì No non è quello con laser Peccato Quello è buono Di che classe sei lupo? Dici Classe nel senso di anno? Che anno sono? Questa me la butto Uè Andrea Buona domenica Zolupo Buona domenica a te Caro Anche buon pranzo La meccatronica La parte del cambio automatico Ah Fra Ok Del cambio automatico Perché si cambia automatico C'è la parte elettronica Che è meccanica Quindi chi ha giusto I cambi automatici Vengono chiamati meccatronico Ah Pensate Giuro non lo sapevo Niente regà E Io avevo imparato Una roba nuova Sulla Che è sul metodo Della pesca Lì E oggi ho imparato Sta roba De Uh Aspettate C'era qualcuno Regà Mi sono impressionato Non lo so Scoppiato Ok Quindi Ecco Per la parte Del cambio automatico Ok Ho sentito dei passi O no Però Mo va a capire Non si capisce bene Sopra sotto Altra casa Boh Vabbè fai prendere il contratto Che mi serve Qui qua papà Buona domenica Francesco Ti metti diretta Con il mega schermo In centro a Praga O sei protetto da copyright Ah No 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 Dai si può Si può No si può Si può La live No Ah è qua È qua Pezzo di dis... Lo sapevo Dove è andato? Famme Famme Dove sei andato? Si aveva camperato Con le mine lì Nell'angolino Incredibile Che mi aspettava Uè Disgraziata Delinquente Maledetto Avevo sentito bene I passi Olla Vedreva due bombardamenti Questo Assurdo Eh vabbè Ogni tanto Vedete La live è buona Regà Sembarano cose Qualcuno di noi Sa qualcosa Qualcuno di voi Sa qualcosa Se scambiano idee Opinioni La domenica Ma la sense che c'hai È la più alta del gioco No mi pare che arriva fino a 20 Io ce l'ho a 15 Adesso No no Non ce l'ho al massimo Vado al massimo Arriva quello su Oh 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 No Scusatemi Come ha fatto quella Ma quello non guidava il gommone Come faceva a spararmi Fra ma che è Ma che c'ha Quattro mani Otto piedi Vabbè Ma male che non sono morto Come stai Non c'è male Dai Rocco Tutto Tutto bene Tutto bene Che mi dici tu Buongiorno Buongiorno Ma c'era il cecchino Comunque in teoria Regà Ma non si sente un basso Regà Mi sono cagato Quasi sotto Madò No Devono sistemare Io non ho sentito niente Di sto tizio Che mi camminava lì Meno male che ero puntato Perché io Pensavo fosse sul ponte Vabbè GG Ad Activision Che vi devo dire Cosa è che mi ha buttato a terra No No Questo mi serve Ma lo porto via Ah posto Basta Bella Alessio Bella Alessio Buon pranzo Buongiorno Ah quello sta facendo una cosa lì Vabbè Non ci interessa C'ho un minuto Per fare la missione Che devo fare La più vicina Qual è? A 94 metri Dai Ci aumento il tempo La cosa che mi piace molto Di qua Raga E Il fatto che ti puoi buttare A mare Anche a volte In situazioni difficili Ti butti sott'acqua Ovviamente Non è facile vederti Puoi fare copure Con la safe Per esempio Magari devi attraversare Cioè è un punto Dove sta al mare Ti butti sott'acqua E loro non ti vedono Mentre attraversi E mi piace Mi piace sta roba Quello Lo zaino grande Zì Oh no Cos'è sta roba? Il TAC-V Dite che è meglio? 30 colpi Però il RAL Mi ha salvato lì Lascia il RAL Che è forte Putto sotto acqua Non ti incastrare Buon pomeriggio Vassi Secondo te Che lavoro faccio? Oddio Se me l'hai chiesto Secondo me Lavori con le auto Visto che ne stavamo parlando Adesso hai chiesto Che lavoro fai Secondo me Lavori con le auto Anche tu Credo Non lo so Vado Vado così intuito Allora Allora Cosa puoi anche sparare Ok Ah Sott'acqua Sì 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 Guarda Puoi restare così Però ovviamente Non rincula un po' di più l'arma Se resti Perché comunque Mi ria con una sola cosa Ah no Fai il barbiere Ma che dici? Non vero bro? Top top Ha detto Ho detto c'ho l'amico mio Che È lui che mi fa i capelli Eccetera Abbiamo fatto le superiore insieme Poi ha fatto Ho studiato e tutto Si è aperto il negozio E se fa il barbiere Io vado da lui Cioè Mi taglia lui i capelli Ma ha fatto lui la Il biondo platino in testa Che è mai diventato più biondo Che il platino Perché vabbè È passato parecchio tempo E bla 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 E non l'avevo fatto troppo chiaro Come platino Quindi è diventato un po' più biondino adesso Però C'è anche Probabilmente È colpa di Gattuso Perché vi ho detto Che a gennaio Facciamo la challenge nuova Ci saranno le penitenze E penso che ci sarà anche qualcosa Per quanto riguarda i capelli Non lo so ancora Che cosa mi ha messo Ma mi ha detto il barbiere tuo Poi Se capita la penitenza Dovrà Ci ha da lavorare Ah Bene Andiamo bene E poi ci sarà una sorpresa Non ve la dico ancora Non ve la dico ancora C'è una sorpresa per voi Che stiamo organizzando Però non ve la dico ancora Diciamo che stiamo facendo un evento Con un premio Vabbè Una cosa Una cosa Insomma per voi Shop Sicuro Osservatorio Mio dio Dietro non si può tornare Che arriva anche il gas Qui Osservatorio non ci voglio salire Anche se mi piace molto Però è rischioso Morirei subito Sicuramente Vediamo Vediamo che succede Uh dove sta Comunque Direi di pronto Bruno Salvatore Antonello Finisco questa E si parte I singoli sono strani Ci sono quei singoli In cui La gente non campera Fai belle kill Ti diverti E poi ci sono i singoli In cui la gente Tutta ferma Immobile Non trovi mezzo cristiano In mezzo alla mappa Non ci stanno taglie Ci potevi regalare Dei portachiavi A Natale Ma no Facciamo un evento Dei pdf Mo vi regalo Una lupacchiotta A tutti quanti Sotto l'alberello Che dite No 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 È un evento Carino Dai che stiamo Preparando Dove Potete anche Vincere Una cosa Non vuoi spoiler O altro Vi divertite E poi ovviamente Chi sarà Più fortunato E vincerà Vincerà Questo premio E gli abbonati Lupo No Questa volta Questo primo evento Ho deciso io Perché Diciamo che L'idea era Per fare gli abbonati Ma io Ho detto no Facciamolo per tutti Questo primo evento Facciamolo anche Per chi non è abbonato Però poi Faremo anche un altro evento Solo per gli abbonati Ovviamente Perché è giusto così È giusto Che ci sia anche Qualcosa di esclusivo Per gli abbonati Però questo primo evento È natale Siamo arrivati a natale No Famolo per tutti Ha messo la mila Allo shop Ha killato uno Non l'ha luttato Eccolo Lo sapevo E' qua dentro Sicuro Dove è andato Eh che palle Come camper No Non si sente niente Non l'ho sentito io Zero Zero Che mi pushava le spalle Niente Ad celli Vabbè GG Allora Andiamo a pulire casa di nuovo Da l'ultima challenge No Bisognerà pulire casa Penso dopo La nuova challenge Quello che ha tu Sono pazzo Vabbè io Me la devo Cioè lui qualcosa Ha studiato Io qualcosa Mi stavo studiando Non lo so Vediamo Io ho paura Della nuova challenge Ho paura Ho paura Qualcuno Non lo so Come faremo Non lo so Non lo so Proprio Mi sa che Che è finita Che va a finire Che resta due mesi Due mesi live Eccomi Dai fammi giocare Sto gulag Dai Lo voglio giocare Niente Mi sa che esco Cinque Quattro Allora Mi vado A fare la scorta I patatine Prego Prego Vada Vada Che a gennaio Parte la nuova challenge Per sentire lupo Comunque c'è l'impostazione Per sentire lupo L'ha dato un ragazzo E si sentono i passi Eh no Ma Io ce l'ho Ok Io Ho messo qualcosa Per l'audio Però È buggato A volte Quando ti fanno da dietro Non li senti Alcuni sì Alcuni no Non so È un bug Per forza del gioco Dai No Dai Buono 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 Abbiamo vinto Buono Buono E quello è rimasto One shot Ehm Ho su Instagram Instagram lo vedo prima Sennò Su Messenger Però lo vedo dopo Ciao Angelo Cos'è sta cosa del regalo Sono arrivato in ritardo No 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 Stavo dicendo che Vogliamo preparare un evento Un poco prima di Natale Per voi Dove C'è sta anche un Diciamo un premio in regalo Insomma Per Per chi partecipa E E E vince l'evento ovviamente Non è che Però è gratuito Insomma Cioè nel senso Vi divertite Poi chi sarà il fortunato Che vince E vince Non dovete pagare Niente Totalmente Tutto 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 Gratuito L'importante È partecipare Poi ci sarà per forza Qualcuno Che sarà più fortunato Che vincerà Però Sì sì Sempre sulla pagina Luca Sempre sulla pagina Lupo Bianco Che figata Che disgraziate Disgraziate Delinguente Delinguente Infame 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 Ecco l'eco Ho preso le mie armi GG Belle 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 Con le doppie pistole Bella Matteo Fambo Uè Joy Bella Ma adesso Mi è arrivata Una notifica Ma tu sei un delinquente Infame Infame Delinquente Disgraziato Infatti non sei stato Tu il primo Il primo ad entrare Alle qui c'è 30 Fai un game O fai singolo Bella Domas Non lo so Nel senso che adesso Faccio entrare Sì dai Un game Ce lo facciamo Adesso faccio entrare I sostenitori Ci sono tre sostenitori Tre abbonati al canale E gioco con loro Dopo sta partita Però dai Una ce la facciamo Te l'avevo promessa Che una la facciavamo Turuduturum Dai dai Le 15 e 30 A una o due partite Le famo Che va la taglia Pessatino Oh guarda quel tizio Che è passato lì Ehm Mova assolutamente Oh What C'è uno veramente Qua sopra Fra E' uno pure Che mi viene da dietro Mi dissocio Sembra brutto Detto così Due dietro C'ho due dietro Mamma mia Hayden Hayden Questo si chiama Hayden No Hayden Non il campione Dei god L'altro C'è il campione Dei god americano Non il campione Dei god americano Hayden Sarà quello su wish Quello comprato su wish Sicuramente Eccolo 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 Quello che inseguivo Guarda quando prendi Loadout È un'altra storia Comunque Altro che giocare Con le armi da terra Sti disgraziati Hanno dovuto mettere Cioè Devi aspettare Il terzo giro Per prendere Loadout Ma devono cambiare Non esiste Posso capire Non al primo Ma Non me lo puoi Mettere al terzo giro Fra Ma io fino al terzo giro Che faccio Schifo Con le armi da terra Mettimelo al secondo All'inizio Del secondo giro Se mi sono Le fanno schifo No La madonna No zì È arrivato il gas Io Ti sento Ti leggo Ti leggo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Angelo Ti vedo Buongiorno Ho un problema Aspetta Aspetta Che mo' Proprio il momento Sbagliate Che sono a fine partita Ho un problema Anche io Da qui Sono da prendermelo Shop Su Battle Royale Me ne da un'altra Eh perché Devi settare No Aspetta il bombardamento Aspetta Ti spiego come devi fare Dopo sta cosa Ho capito già Ho capito che c'è il cecchino Che mi rompe Perca No no Che sfiga Non ci credo Peccato Va bene Va bene Allora Mo' vi spiego Come fare quella roba Ma la stessa cosa Se lo compri Il lupo 10.000 costa Velo di prima E 10.000 costano le armi Sia assalto Che mitraglietta Eh ma non c'è Le specialità Capito C'è C'è differenza Ragazzi Una cosa è che tu Compri solo l'arma È una roba Che prendi loadout E loadout Ti dà le specialità Eh c'è differenza E il punto È che prima Con 10.000 Tutto il team Prendeva le armi Adesso devi fare 10.000 a testa Sono 40.000 Per prendere Primaria e secondaria Su cazzi Cioè Valle a fa 40.000 Non si trova I soldi Per restare uno Fai 40.000 Poi devi fare I Wav Devi fare le robe È devastante Comunque Vedi come ho fatto io Vai su armi Praticamente Quando le acquisti Lui legge La prima arma Di ogni classe Che hai fatto Cioè Qua c'ho l'M4 Lui vede l'M4 Non vede questa qua Secondaria Il TAC C'ho il primo Il TAC Vede il TAC Non vede questa Qua c'ho l'RPK Vede l'RPK Non vede questa Secondaria Capito Tu ogni classe Che fai qui Lui vede la prima arma Di ognuna Quindi automaticamente Se tu vuoi fargli Leggere la secondaria Devi creare un'altra classe Ancora Con quell'arma là Se no Lui non te la prende Eh si Le speciali dà Se no le prendi Quando scendono Però il problema Era quello che ti dicevo Capito Cioè nel senso Se vuoi prendere Tutte le armi Sono 40.000 Per il team Se fai quartetto Allora Le ho create le classi Tre volte Ma quando scelgo TAC Quando scelgo Mi da un'altra arma O viceversa Si ho fatto Sei primarie Ma clicco Una mi da un'altra Questa è una roba No a me non me l'ha mai fatto Questo problema Comunque Aspettate che apro Il party Dove siete Allora Venite venite Salvatore Salvatore Antosg E Bruno Dove siete Entrate 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 Io sono voi Ho aperto il party Aspettate che vi vedo Ok a bici L'ho visto stesso io Vediamo se vedo Ecco qua Buongiorno Buona sega Buona sega Buongiorno Buon Natale Buona Pasqua Buon San Lorenzo Buon San Valentino Allora Che che manca Di noi Tento Non vedete niente Secondo l'eco Della live Allora Salvatore Manca Bruno Quindi Bruno Allora Era Baggins Bilbo Baggins Non lo vedo Baggins Perché non vedo Baggins Ento l'eco Della live Comunque Però andò Ma clicco Mi da un'altra Questo è strano No no adesso Stanno entrando i sostenitori Manca Bilbo Baggins Che non so Dove è finito C'è Bilbo Baggins Se no partiamo un attimino E poi si unisce Vabbè Vabbè Partiamo un attimo Ci sono Entra sesso tu Entra sesso tu C'è c'è Entrato No Devi partecipare sesso tu Perché io non Non ti vedo tra gli amici E' un valore sempre del gioco Vedi Se scrivo Baggins Babba Non mi da niente Vetrina Vediamo se ti vedo qua Mi è partito per la compagnia della mella Allora Eh si E Gandalf l'ha rapito Non lo vuole far giocare Ah no ti vedo online Devi partecipare sesso tu E andare su di me Devi fare partecipa Ma Ma le sfide bonus Sono bugate Quali Dipende quali Quando tu completi le sfide giornaliere Poi ti dà quelle bonus E ti dici Completo Ah si Oh non lo so Ancora non l'ho fatti io Quelle di oggi Come sfide Mi m'è pubblicato Dopo vado a vedere Ho completato tutto Eh mi dice 5 uccisioni Ho fatto 6 kill Però non me l'ha dato Cioè c'era ancora 0 di 5 Baggins Devi partecipare tu Aspettate entriamo da lui Entra col party Ah uh vabbè Siamo entrati qua dentro Fammi Mi sai come farmi leader Ciao Baggins Sai come farmi leader Beh Allora Eh Se no vai tu dai Quartetti Dai fai tu Eh L'unica cosa Sento lego Se potete toglierlo Ho levate l'audio Sento lego dalla live Quindi se Vabbè basta togliere l'audio Insomma E Intanto mi sentite qua Cioè l'audio lo sentite da qua Da me Allora Vedi se dopo lo vedo Uè Bella Bella Daniele Buona domenica Anche a te carissimo Buongiorno Pronto No Pronto Ma vedo Luca col cuoricino Vedo Ma perché non Ma perché si bug Io devo capire perché si bug Zio Non è uscito l'alert Oh ma solo delle sub Ma questo è un bug loro Hai fatto Hai fatto l'abbonavento Luca Vabbè comunque vi riesco a vedere solamente col cuoricino Quando scrivete Incredibile A volte si bug Non sempre però A volte si bug Io lo devo scrivere Vabbè glielo scrivo domani Che questo è domenica E grazie per l'abbonavento Luca Per forza Che ti vedo col cuore Benvenuto Grazie per la sub Luca non ti manca Revert No No Vogliamo salutare La tua ragazza No 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 Non mi manca Al momento non mi manca Revert Si sono mutati O se ci siamo partiti E noi ci siamo indietro Perché lui ci ha partiti E noi ci siamo indietro Sì No Ma al gioco Al gioco Sì Una volta anche entra in partita E allo start Fino allo start Non senti nessuno Cosa Ah no no A volte si Sì Quando sei in game Sì Non ti parte Stai che te Ciao Dopo controllo i messaggi Eee Non mi aspetto Eeeh Ah grazie Prego Ma Luca E' buona pasta forno E' buona pasta forno Va bene va bene va bene Eh la life ho scritto Ho letto Ho letto Dopo la live Controllo Controllo Il messaggio Rispondo Allora Nicolas ha venduto la play Oh Meno male Così non vi litigate più Basta Così non vi litigate più Comunque è arrivato il caffettino Ragazzi Da mamma Lupo Non vorrei di niente Poi ce lo beviamo Che che mi ha scritto No E entra in accione Eccomi Allora dove andiamo ragazzi Pronto? Pronto? Dai ci siamo Allora Indrolettrica Osservatore Sto pensando Sto pensando Qua Qua Da Saeed Saeed Sono quattro persone qua Che arrivano Team Oddio c'era uno attaccato Bilbo Piglia l'anello zio Mettiti l'anello Quattro team No Salvato Salvato Uno l'ho fatto? Uno l'ho fatto anche io Grande Bilbo Il segale l'anello funziona Dovrà abbattersi per tornare in campo Imprestamolo Guarda a vedere le robe sulla terrazza Pessime idea Ci deve stare un'altra gente comunque Cioè Sono scesi in tanti Fra Che sono andati? Ah eccolo là Minchia Mi danno un colpo Mi danno un colpo Mi washout Annalucinante Il L'indiano lì Il giapponese indiano Ti ha killato Il bagno aperto Non lo rivedrai più Ho perso il gulag Oh What? No Impossibile No 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 Ma di che stiamo parlando Fra ma Sono morto Con la pistola La vabbè Guarda mi metto a ridere Perché Sennò ci sarebbe da piangere Sto culo In teoria sono safe qua sopra Sono safe Bilbo dove sei? Arriva Arriva Una cosa scena sto culo C'è una scala Se no scendi Scendi giù Scendi giù Scendi giù Sto scendendo giù Sto scendendo Sono sceso Sono sceso Sono a terra sotto Sono qua fuori Sono Esci Esci Vai a letto Mi si è appena alzato Vai a letto Oh mio dio Mi è caduto Cori Cori Vai a letto Cori Cosa è sta roba? Telecamera tattica zio Addirittura Sul tetto dove Dove sono morto io prima Le cose sconce Sì ma comunque Quello mi distrugge Oh ma hai fatto caga sotto Sì pensavo Quello ride Pensavo che fosse Quello che mi ha bussato Non so se l'avete visto In fondo In fondo C'è un team In fondo a sinistra Fuori dalla porta In fondo c'è No Sono italiani Ah c'è italiani C'è figa C'è figa fuori Che cazzo sono tutti quegli elicotteri zio Vado sul tetto Vado sul tetto io Ce l'ho sa Ok sta parlando E vai a terra Vai al VULAG No 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 Sono andato al VULAG Io qua dentro Dovevo ricaricare Questa è quella che ha ucciso Vabbè mi faccio il VULAG Dai Mi faccio il VULAG Ragazzio Ok ha finito il caffè Oh 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 Che vuoi da me Oh fatti fatti due Ah proprio con quello che ho chillato Sono insieme in squadra Va bene Tutto regolare Andiamo andiamo No la graneta Dai 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 fattelo No non ci credo Perché il compagno È disgraziato proprio Guarda Non ci credo Si è fatto ammazzare Da quello che lui Era andato a pushare Io no Perché vedo l'altra squadra Eh lo so Anch'io vedo un'altra squadra Sì Bella Francesco Bombariccio Chi è rimasto vivo Baggins No 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 Siamo tutti morti Allora Prego Prego Esca Esci 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 Portaci tutti Via E rifacciamo Ah allora non era un bug Era morto anche Baggins Ho scaricato Battlefield 42 Molto meglio Vabbè adesso si L'hanno un po' sistemato Quegli aggiornamenti Battlefield 2042 Però è stato Un po' un flop Anche quello in realtà Vai 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 Opzioni Fai account di rete Partiamo Partiamo Ma questo lo devi vedere Quando è in partita Però Non lo puoi vedere adesso Non lo puoi vedere adesso Si vede dopo Tre allegri ragazzi morti Ma vabbè Ogni volta devo beccare Quello nel gulag Perché non sa giocare Vabbè 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 O faccio io O li faccio fuori tutti e due Io nel gulag O si perde il gulag È incredibile Assurdo Quella è andata a pushare Il tizio che mi aveva sparato dietro Ti danno sempre la pistola Io voglio Non gli ha dato neanche un colpo È tornato da me E si è fatto ammazzare Pistola Infatti Quando ne riferanno una pistola Vedrai che nessuno più le usa Le pistole sono fortissime Infatti io c'ho la classe Con le doppie pistole Sono bellissime Ta 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 Due colpi va a terra Ta 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 Eh ma Sono rotte Adora Sono rotte Sono rotte Lo so Sono fantastico Mamma Mamma mia Mamma mia Che cos'è Una scotega Allora Buongiorno Giovani Buongiorno Giovani Io bocca Quando sto giocando No 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 Oddio Non fate partire Musica Rega Per favore Ok Eccomi Crack e basta Uh crack Faccio solo danni E mi danno 3-4 colpi Mi muoce Vediamo Vediamo Andiamo in una zona Forse un po' più safe Vabbè Questo me l'ha già mandato Vediamo Vediamo come gira Bottino No devono aumentare solo i soldi Secondo me Rega Un pochettino Un pelino Un pelino Devono aumentare i soldi Assolutamente Dentro le Dentro le Le travisore Come si dice Negli scaffali Oppure quando vai nei negozi E ci sta la Come si chiama La cassa La cassa O quando Anche un altro Per Capodanno Effettivamente Signori Quei che fate a Capodanno Capodanno Io Non lo so Cioè nel momento Incognita Cioè nel senso Paralmente non ho organizzato nulla Vabbè Io sono quello Che Capodanno L'organizzo Qualche giorno prima Si organizzo Comunque per i soldi Se no Basta che quando fanno gli eventi Della roccaforte Che aprono le tre roccaforti Le altre roccaforte Si possono aprire dopo Eh si si E per i soldi 40-50 mila Si con le armi Si si Questa volta lo facciamo Si 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 Lo vedo lo vedo Angelo L'unica cosa è Stiamo dicendo Lupo mi aggrega a te A Capodanno No no Mi sa che è meglio Se tu organizzi Quella cosa là Fra ma Aggrega io a te Vai a organizzare Quella roba là Capisci a me No ma non famo niente Di che ogni volta Fra Ci organizziamo sempre Qualche giorno prima Con dei miei amici E basta Fra Alla fine Non famo niente Di particolare O andiamo a ballare Che sennò che fai Che giorno andiamo a ballare Sì andiamo Quando è stato L'anno scorso Non mi ricordo Se abbiamo fatto qualcosa Mi ricordo Due anni fa Capodanno L'abbiamo fatto In live Cioè io ero live Qua con voi Abbiamo fatto la sfida Lì Ogni volta che morivo Dovevo bere un bicchierino Mi disse Ma è vero Mi ricordo Ma no Ma no Che è risata Non capivo più niente Alla fine Ma non mi ricordo Niente cosa ho fatto Di capodanno Però sì Guardavo Uh aspetta Non scendete proprio là Venite al parcheggio Con me Mi è sceso un botto di gente Dai io sono dietro Un ruolo Uh buono Ho trovato la fennec Eh Ti doi organizzare Zio Pera Ti mandare un messaggio Eh era sceso un team Qui raga Però non ho visto Dove sono andati Io stanno Ho detto di nuovo Ci sta tranquillo Ci sta Vra anch'io Non ho fatto nulla È normale Dove 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 Parcheggio Ma da solo Eh era Vittoria Sì Visto 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 L'ho messo one shot Lo sto busciando Raga Arrivo Crackato Secondo piano Piano terra Ammazza Crackato No A terra C'ho mai fortuna C'ho mai fortuna Mai 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 Finito Gli altri dove sono Non hai visto se stavano altri L'abbiamo fatto quello lì Che t'ha kicklato Eh Vabbè dai Vi cercare di vincere il gulag Mi viene da piange Eh dai Vinciamo il gulag Buono che hai preso la cassa Mi sparò Mi sparò Qui qui Ah cazzo ho finito le muni Qui sotto Sì Fatto Eh ma dove l'altro Dovrebbe esserci l'ultimo No con la mina Lo sapevo che me tornavi dietro Lo sapevo Fatto Fatto Buono buono Altro ho fatto Baggins a posto Sono finiti Sono finiti Abbiamo chillati tutti Let's go bro No way bro No way bro Andiamo andiamo Ragazzi Fuori di testa Ma quando fai 568 mila euro In un me Ok il tizio mi rimarrà a vita in testa Quella pubblicità Usciva a tutti i video Incredibile Andiamo a fare la missione Ok vice Tu sei tornato A posto Apri tu le casse Se riesci Ok Dai Dai Oh ho trovato i soldi in una cassa Miracolo Ehi Mo se ci fai salire Da qua forse sono Dove sono io qua Ti fa salire Dai Non fate salire Ok a posto Rescia fa Quella cassa Eh quella chissa Stavo a dire Quella cassa vice Ok a posto Sì sì Eee Vado a fare quella Non lo so Vabbè no Ci dividiamo troppo Andiamo a fare questa qua Stiamo vicini Che quasi Se no Se becchiamo il team a quartetti E siamo separati Avete visto Moriamo subito Andiamo insieme Ebbè Grazie Tu hai svaliggiato la banca Altro che la cassaforte Che gente è qua? 10.000 Dai dai Sembra uno Uh L'autostress Bello È da solo raga No Mi tengo quei schichi Eh attenzione Non è detto che è da solo Arrivo Uè capoccione Pezzo di un Ucchie Pezzo di un capoccione Sì secondo piano È sopra È sopra Non è da solo C'è uno che mi puscia giù Fatto Uno c'è buttato Craccato sul tetto Uno Craccato sul tetto Vieni dentro Vieni dentro Baggins Un'altra E' da te vice E' da te vice E' qui sotto E' qui sotto Ti ho messo il pingo Uno è sul tetto E' un altro E' fuori No Io crack e basta Audio Quindi sono rimasti in tre Due Ti puscia Non so Non li puscia Ecco qua L'altro fatto È arrivato un altro Baggins No L'ha fatto Craccato Eh mi sto piastrando No Craccato 8 carino No ho finito le munizioni No Che gioco È una merda Tre ore per ricaricare l'arma Eh Staccato è solo una barra di morte Eh Si muore sempre Pusciando staccato di merda No Io ho finito i colpi Perché 30 colpi Avevo nell'arma L'altra era scarico L'avevo fatto tutte e due Quando ho switchato l'arma L'altra era scarico Però queste case Sono male da Ecco Incredibile Mannaggia capoccione Mannaggia Dov'eri a salvarmi Dov'eri Non c'eri a salvarmi Capoccione Un'altra era scarico Un'altra era scarico Un'altra era scarico Io Let's go bro Vamonos Vamonos Eh Stai a mangiare le noci Mi stai facendo venire fame Eppure ho già mangiucchiato No Siete morti tutti Ragazzi Andiamo bene Dove stanno Andiamo bene Sto pensando Qualche posto Un po' più tranquillo Per fare la stack Ah Qua l'hanno presa Pensate La prendo qui dai La prendo qua Per fare di nuovo Lo Diciamo Lo sciagallino Tutto a posto A procida E a vedere di Di restare Un attimino Agenders Vediamo se riusciamo Benissimo Si gioca Si gioca Bebrew Si gioca Per mettere in piedi La partita E di da da Rida De rida Da rida Buono Ho già Qualcosa Buono Sennò stiamo Senza niente Cioè Sta solo La fiat di wish Cacchio Peccato Mi avvalgo Della facoltà Comunque La cosa più Cioè La cosa che mi fa Veramente Buono Lo so La testina Di sto gioco Il fatto che I passi Non ti aiutano mai Una volta Mai Eh perché Al momento Sanno buggati A volte Si sentono A volte No È un problema Di tutti Al momento Cioè Anche che Entri attorno Non li senti Cioè Non è Assurdo Infatti Non faccio Neanche più Singoli Sai perché Perché Gli vado in bocca Nel singolo Ogni volta Gli vado in bocca Cioè Non ha senso Ma in che senso Gli vado in bocca Gli vado in bocca Ad un bocca Io comunque Non riesco a giocare Bro Ma che Qua Vince Il primo Che spara Il primo Che spara Vince Eh invece No Io muoio Io sono Spiegato Che spara Per prima E muore Subito Eh dipende Poi che arma Ovviamente Se c'hai Quella meta No no Con tutte Con tutte In generale Io li tracco Solo Lupo ma dove sei Dove sono A casa Seduto No mi dissocio Nel gioco Dico Che parte della mappa Sei Eh Sono a Side city Di nuovo Audio perché c'è gente Uno No 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 Non si sente un cazzo Non si sente Dove era Ah era qua Nella stanza a fianco Era nella stanza a fianco Era Erano quattro Allà che peccato Vabbè Riproviamoci Rifacciamo Ah Santa pazienza Secondo me Devono alzare Il tanto Chiedi Forse un pelino Però dipende Ma magari da vicino Perché da lontano Secondo me Va bene Se no Ogni Non li fai fuori mai Dovrebbero regolarlo Eh capito Da vicino Dovrebbero alzarlo Sì perché Non hai proprio Tempo di fare nulla Praticamente Il primo che spara Vince No errore Dai Ancora c'è sto problema Eh dobbiamo rientrare Mo da chi rientro Vediamo se mi fa rientrare Da Da vice Se non è crashato Eccoci Perché siamo in 5 Regà che è successo Mi sono sdoppiato No lo so No lo so Ah Andrato Black Tacci di pippo ladro E' entrato Black Entrato Black Non lo sento Sarà su discord Eh aspetta Deve uscire lui Se no non ci fa startare Ma si c'è Black Ma non ci sento E' uscito E' uscito Ok andiamo Andiamo Vai 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 Andiamo Andiamo Ok Ha startato Vabbè ci riproviamo Si tocca alzarlo Il Tantum Il Tantum Il Tantum A Napoli Sta camperando No perché Allora si era buggato Vedevano un'altra squadra Regà Vedevano un'altra squadra E quindi giustamente Non mi vedevano a me Non sapevano dove ero Ua lupo Mi sono mai I pulpa La Luciana No Io c'ho i calamari Di là Aspetta che mi stai facendo Venire fame Quasi quasi Ma da mangiare No no Basta che ho già mangiucchiato Io ho già mangiato Che ho mangiato No è crasciato vice Aspetta 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 Madonna che gioco Eee Dobbiamo rinvitarlo Usatemi un secondo Ragazzi Ok l'ho rinvitato Eee Ti ha dato errore Si Ecco ma Si vabbè Come ha fatto a me Andiamo Le solite cose Ragazzi Eh Ogni tanto Si ti butta fuori dal party Senza motivo Vabbè Si ti da gli Dev error Dev Si Dev error Eh Un po' di pazienza Voglio Allora Oh ma hanno messo Un nuovo Chi è questo Il faraone De De lupo bianco Che skin No hanno messo la skin del faraone Qua Ma non ce la fanno a fare delle skin Decenti Decenti Si però Si però non è che Chissà Quanto sia Azzeccata In realtà C'ha la maschera Due band sulle braccia E basta Che farà une 20 euro Per lo schifo Voglio 20 euro Per le bende Sulle braccia E la maschera In faccia Piuttosto spendi 10 euro Prendi quelli della Cold League Che sono tutte nere anche Ma Guarda la mia No è figo l'emblema Più che altro Si però No 20 euro Solo per l'emblema No Cioè è figo il logo L'emblema Quello là Con l'emotico Neck Cazzo Però Guarda Tutti i bandoli Che hanno fatto Sono Non orrendi Ma di più C'hanno fatto una Che si chiama ETH3M Che non ho capito Divisa militare Hai vista in tutta la mia vita Poi Leo Messi Non si può guardare Ah Leo Messi Madonna L'hanno fatto sbagliato No vabbè Quante Quante No No fra Ma quanto l'hanno fatto brutto Fra Cioè C'ha le vene dei muscoli Leo Messi Mamma No vabbè Pogba Sì Pogba Già è accettabile Però Madonna mia Madonna Io Tutto bene Simon Bella Buon pranzo Buon Natale C'è uno dei tre Che si lamenta sempre Ma ma Allora Ieri polpo Oggi calamari Ma la carne L'ha eliminata dalla dieta No no L'ho mangiata la carne Non mi ricordo Qua la cotoletta Ho mangiato la cotoletta L'altra volta Anche quelle del passo Non mi piace Che skill sono Cioè Che divise militari sono Mai vista In tutta la mia vita C'è qualcosa che non va bene C'è qualcosa che non cosa C'è qualcosa che non quadra E vabbè Tutto Tutto regolare Tutto nella norma No Zio Ghost kill No ODP No Officina del pad Volevi dire Bravo Eh A proposito A breve Annunciano la mia partner Con officina del pad Quindi signori Con il pad Con il marco del lupo Eh sì Ma hanno anche le console Oppure solo i pad No Solo i pad Solo i pad Ah eh Stasera c'è gattuso Regà No Ma no Mi ero dimenticato Stasera ci sarà Saremo in live Io Gattoso Saretta E giada Signori è finita Dai dai Azz È finita Mi fate compagnia al lavoro Due lupi e due lupacchiotte A che ora? Eh penso sempre la sera Per le nove e mezza Quell'ora là Perfetto Andiamo qui A fare l'olio A fare benzina Ma fa benzina Nell'olio Andiamo Andiamo No Sai ma non ci sono Non ci sono Perché c'ho la partner qua Cioè ce l'ho il canale Ma non Non posso fare niente Dall'altro lato Cioè se mi cerchi Lupo Bianco TV Ce l'ho il canale di là Ma non posso streammare Perché sono partner qua Te la posso fare Una domanda Dipende 50 euro Che fa la domanda No Arriva 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 No no Aspetta Concidiamoci un attimo Dopo dopo Vai vai Sembra libero In teoria No no È arrivato un tizio È sceso un pallino Prima di noi Ok C'era 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 qualcuno Hanno sparato? Beh chi si chiamaceli? No Visto Uno a terra Uno fatto E non c'è nessuno No no C'è c'è Oddio Ma levato le biastre A terra Fatto Ah ma qua è bloccata la porta non mi fa entrare C'è la missione della cacciaforte Boh sembra libero Dice che puzza Eh non lo so L'altro l'avete chiliato voi? Eh no Cioè devono stare almeno altri due L'ho chiliato io Ma non ha dato Team ambientato Non te l'ha dato? No Ah vabbè Che si è morto nel culo Vabbè Dobbiamo fare i soldi per essarlo Facciamoci Ma questa cacciaforte No No Vabbè No Giura che ci ha messo la cassa dentro la roccaforte che è chiusa Sì Mamma mia Mamma mia E vabbè facciamo le altre nel frattempo Perché ogni volta No no Uno è camberato qui dentro Sì No 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 Uno è da solo Fatto? GG GG Sto morendo aiuto C'è un altro C'è un altro qui C'è un altro qui Gira ti gira di dietro Aiuto aiuto Ma io non ho collezioni eh Ma confermare No Vedi Lo crack e basta Ma no Lo crack L'ha fatto Vabbè Ressa vincere Ressa vincere Ressa vincere Ressa vincere a posto Assurdo Avevo tre piastre bro L'ho crackato e basta Ma da tutte le colpi Ma sti Te lo ho detto Assurdo Assurdo Io crack e basta Cioè Ma che amo crack e gli dico Oh ma che cazzo è Ma che crack io Ciao crack come stai Tutto a posto Cioè Capisci che Sf***a Tornati Eh non è facile Questo mi ha distrutto Nel gulag Mi sa che non ce la faccio Stavolta Saldi come sta messo C'ho io Sce Eh Eh ma fatto Senza piastre Non è sti bagalare Ma non me la fa prendere Dai 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 vincito Vinci Tira una granata L'adietro Eh attenzione Sì ma non me la fa prendere No E' fatta ammazzare E' fatto ammazzare pure lui Niente Dovete fare i soldi Per Per essa Andiamo alle cassa Pro Eh la cassa è una C'è la roccaforte Ma attenzione che c'è Il botto No non andate Alle roccaforte In due vi distruggono Sono troppo forti Sono arrivati pure gli elicotteri Lasciate sta C'è Quella dietro Vedete Eh quella dietro Oh chi è Ah c'è gente La laghi Quanti Quanti Eh Sono io Oh incredibile Dai vi prendono Fino e qua dietro Sono io Sono io Ma che pushano pure Boh Mi sembra strano E invece Madonna Fanno malissimo Comunque Fanno malissimo Il botto Regà In che Bambini C'è andando Dite cazzo forte Allora Uè Cristian Zaccaria Buon Natale Buon Natale Buonasera Ah ma una cazza forte E' esterna Sì una è esterna Ma la potete fare Quella esterna Quella dentro no Quella dentro dei bot È impossibile Regà Oh Accitato Pronto Pronto No vabbè Che sta succedendo Ma Eh Ma che sta succedendo Zio Perché la gente La crack e basta Io Sì una Ho visto B-Bro Ho visto Il B-Bro Con il cecchino Ho fatto il devasto Lì Su in bot Eh potrei Attento Attento Adesso Adesso il B-Bro ci muore Eh l'unica Dove sta il carrello Eh poi ci deve restare La carcetta Ci deve restare Il carrello Eh sta andando Sta andando Attenzione il B-Bro Il B-Bro Contra tutti i bot Della mappa Contro tutti i bot Eh se me resti Andiamo a farla Contro Contro Tutti i bot Oh lo sta paressando Il bot È arrivato un altro elicottero Con altri bot Pomericcio Manuel Pomericcio Fra questi sono quelli corazzati No no vai via Sono tornato Non cambiamo il soldi Eh quasi quasi Per restare anche Bilbo Bang Mancano Due trecento Tranquilli ragazzi Tranquilli Tranquilli ragazzi Fuori di test Ma quando fai 568 mila euro Eh riparte Svizzera Li porti svizz No no Con lo scoposto I migliori Oh Vabbè però C'ha dato le armi Si è attivato il contratto Eh Non si è andrà esterno Buono Ma in teoria Si è già disinnescata Ma di che stiamo parlando Merda È qua Sta scappando Ma è un bot No no Non è un bot No no è un bot Un bot Un bot Ma sei un bot Un bot Un bot Ho preso le mie armi Che figata Zì 14 mila C'è lo guazzi Dai facciamolo Facciamo le armi E restiamolo Mingia dai Restiamo Restiamo C'ha 15 mila Compagnia bella Ma Ma che Ma che fai No 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 Non prendete questa arma Che è la mia Sbaglio l'ho droppata Ok Eh Ma che fai Ma sei impazzito Che dai 5 euro Ma non lo sai Che si Ma qua c'erano altri soldi Ma non lo sai Che quello si compra la E dove la compri 5 euro Bella Emanuele Buongiorno maestro Ciao Francesco Buon Natale a tutti Ragazzi Buongiorno Buon brand Siamo attenti Sì C'era qualcuno Che mi seguiva No ma sono sempre Il bot Mi sa Eh Tirolo Se c'è un wab C'hai push A un camion Arriva un camion No come arriva il camion Eh si Guarda l'wab Ok Stanno di noi Allora Sì Sono appena scesi Ecco Uno c'è davanti Lo vedo Fatto No No Dai il bombarda Non gli ha fatto niente Non si sentono i passi Da dietro Che palle Se avete soldi Ressatemi a volo Ah no Non potete Vabbè niente Niente No Non andare di là Ce l'avete dietro il boccione Regà Dietro il boccione Uno l'ho chillato Io l'ho confermato Vince Ce l'hai qua dietro il boccione L'hai visto L'hai visto Aspetta 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 Fagli il giro Vai vai Ce l'hai davanti DG No E' lì sotto E' qui sotto E' qui sotto Qui davanti Attento 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 Che poi l'arma Buono Attento che poi Non puoi annullare la ricarica Quando ricarichi C'è un altro Ah beh Eh no Uno l'ho fatto io Uno l'hai fatto tu L'altro l'ha fatto lui Forse sono finiti Va Sì Non ho visto Stamato Erano tre Mi pare Vai a luttare Vai a luttare Quelli che hai killato lì Che avevano soldi Soprattutto io Avevo un botto Andiamo Andiamo Dai 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 Si Si recupera Qua sotto Qua sotto C'è stava la sacoccia Dietro Dietro Vici Dietro Qua dentro Oh no Eppure più avanti Più avanti Aspetta No no Non andare di qua Dietro 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 Lo so che avete i soldi Ma c'era altra roba A destra A destra Vici Ecco qua Guarda lì Guarda lì Quanti ne erano Eh ti ho detto io Restiamo tutti E fate pure le armi Esatto Aspetta che forse io torno Ok Vabbè tanto Se sei ancora al burro Non ti posso restare Tanto restavo Vai Ok Eh io altri 3000 C'ho addosso infatti Vabbè ti lascio i segni Ah mi potete restare Vai vai restalo Restalo Ok Stupata Stupata Devo aspettare Devo aspettare Aspetta Ok Ho sentito sparare Non c'ho chi I soldi Provocati di le armi No No c'è un bug Se prendo tutto dallo zaino Sparisce Non mi dà più le pistole Vabbè me le commo Ah no Non le posso mancomprar Vabbè dai Ah Adesso ho scoperto un altro bug Se prendi tutto dallo zaino E non prendi prima l'arma Sparisce lo zaino E non ti puoi prendere più l'arma Che bello sto bug Bello Bello Complimenti Tutto Tutto regolare Io non mi ricordo Dove sono morto Vabbè Non c'ho manco la classe Mi sa singola Con le pistole O forse si Di quando andare a guardare Un po' Eh no ma pure se le prendo Inutili Inutili Perché a me mi servono Le doppie pistole Arriva la scena Non si può fare Vedere se posso prendere No no Eh no Non c'ho le doppie pistole No Ma ho comprato Uav Ma non sono i bot No 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 non sono i bot Infatti tiro uav Ah sono tre sul Sul tetto Non è carcato Avete un bombarda voi? Mi serve Mi serve una secondaria Ho una sinistra eh Nessuno ha la secondaria DG L'uno che viene dal gas Come è possibile? Ma io perché ho il gas qua? Perché ho il gas qua? Sul tetto No 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 Ho visto che sul tetto Ho visto Vai ti puscia L'uomo ti puscia da sopra Ho visto uno qua sopra No 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 one shot Cioè c'avevo la secondaria Questo amico Dove sei? Ah Eh ma ho fatto Ma ho fatto Ma ho fatto Non lo so se il tetto Ma ho fatto Non lo so se tanto leggi Stava là dove stava il camion Però boh Sparava a caso Mi prendeva comunque Ma avesse preso con mezzo volpo Dentro il camion Ha sparato tutto Ah ce l'hai Dietro la montagna Rega sta Ancora Arriva ragazzi Arriva Eh l'hanno fatti Sono più persone Sono più persone Ma dove cazzo è? No C'è tutto un team che aspetta davanti C'è tutto un team che aspetta davanti C'è tutto un team Allora 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 Oh chi è che ha scritto qua? Oh 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 Eh No Qua non la gas non puoi stare Ma c'hai il gulag? Ok Sì Dove avere la maschera Oh Oh Qui avrete la possibilità di venire il vinto di vostro Uccidete il sogno Oh 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 Li sento ma non li vedo Ma come cazzo è possibile? Ma li vedono anch'io? Eh niente Niente Vai vai rifai Baggins Rifai rifai Ha perso Ha perso vice Rifacciamo Cambiamo 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 Proviamo un'altra zona ancora ma questa altra partita dai Eh Mi devo fare una classe Eh Primaria 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 Però ti devo rifare tutto da capo tipo No Questa c'ha Rall Usare cecchino ma tanto non ce l'ho livellato L'arri pk bro Ma non c'erano ce l'ho la roma No Fa malissimo Quando sono uscito dal gas E' dato un colpo l'ho crackato Poi vabbè sono morto Ma un colpo gli ho dato ho visto ho visto ho visto no è tanta roba Comunque quello che ti ha killata a te era un po' strano eh Perché io ho sparato tantissimo lo ittavo ma non andavo mai a terra Ma perché Tanto che ho fallato ragazzi Sai quanti alti li crancono muoiono Il thumb to kill è sbagliato C'è buono l'arco di 50 metri Ma dipende ci sono Ci sono delle armi più rotte delle altre Poi se ti sparano alle spalle non hai il tempo di girarti perché la vita è bassissima mori subito Però Però a volte sembra che tu hai uno di vita già quando c'è lei piena Si schumeranno Cioè un'ora che arriva l'arrivi la metà season così almeno Qualche aggiornamento a sede lo fanno per forza Speriamo Pronto? Non lo fa vedere I passi subito vediamo sistemare Poi il crash dei server Vediamo Mi guarda a prendere un altro po' di caffè arrivo subito La faccio a fare la faccio a fare La faccio a fare Allaиж 발생arlo Trai C'è s guess Pass C'è questo C'è stato Thril Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho preso direttamente la scotella del caffè io. Ah, così. Pombo a 3.000, allora. Madonna come gira male la safe. No, cioè va dentro. Oddio. Eh, riproviamo qua, va. Come in challenge, bravo. Sembra di stare di nuovo in challenge, guarda. C'è gente. Chi è che sta prendendo il cazzo? No, dai, 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 no, però. Non ha senso, sto gioco, non ha senso. Non ha senso, giuro che non ha senso. Siete morti? Non ha senso. Due colpi alle spalle con i cazzotti sono morti. Io devo prendere a cazzotti la gente, fra non devo sparare. Io sono un cretino che sparo. Siete morti. Eh, ma qua, attenzia di disto, eh. In casa di fronte c'è un team. Non c'è niente, non cazzo, bravo, c'è niente. Dai, Peggiz. Ormatti, scendiamo, scendiamo. Ah, andiamo, andiamo, andiamo. Siete vivi voi? Noi siamo tornati, eh. Sì, sì. E' nient'ato il team. Ma si provi lui... No. No, no. Lu discord. No, vanno, 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 da lingua. Vai, ho preso la missione. Dov'è l'RBKM? L'RBKM. 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 Dai, facciamo, le facciamo, è una zona di cacca, però, proviamo. C'è ne una qua, la prendo io. Ok. Macchina? Macchina, macchina. È lupo, 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 lupo. È lupo. Sono io, regà, che cacchio dite? Ah, minchia. Ma sono io? Che cazzo. Vabbè, c'è una macchina, macchina. Sono io che c'è una macchina. Vabbè. Vabbè, sei impazziti. Vabbè, andiamo da un'altra parte, dai, buttiamoci che abbiamo la missione di là. Via. Intanto io mangio la lasagna, strassiccia, asparagi, biciannella. Buona. Grande. Qua ha sbuttato a terra, qua? Bella la maschera, la sdegatè. Prendiamo la saccoccia, prendiamo questo. Ciao. Dove è la roccaforte? No, non qui. No, sono lontano. Faccio WB? Faccio WB? Eh, sì. È lupo. Sì, sì, ci serve, che se c'è gente qua non lo sappiamo. Sì, poi qua nelle case come si campano, ragazzi, senti, eh. Vado. Vai, 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 tiralo, tiralo, che non sappiamo com'è la situazione. No, invece è libera, vabbè. Allora, luttiamo. Io potrei già prendere mille armi. Buono. Quattro, quattro e sette, carrello, vado. No, strano, dove sono scesi tutti? Opera, pinga, i botte, vabbè. Vabbè, tutto regolare. Ombè, ho trovato la cazza bianca e c'ho tre WB, eh. Wow, top. E' tanti sui soldi che ve li porto, così prendiamo la roba. Ma no, 21.000. Ma faccio un biscotto. Venite qua, che ve ne do uno a testa. Sto arrivando. E' impazzito. Ormai quando roccaforte aperte, non ci sono le roccaforte aperte vicino a me, io ci vado subito. Hai vinto il gratte e bianco, sto. Sì. Ah, ti è dato un mob nemico in volo, eh. Tieni lupo. Buono, questo ce lo teniamo. Ebbene solo i soldi per comprare un'arma. Questo me lo porto dietro. Sì, dai, prendiamo le armi, ragazzi. Vai, vai con le armi. Io prendo una mia. E vi lascio i soldi. Ce lo vado, ma l'oppone. Vai con l'RB, vai con l'RBK. Ce l'abbiamo tutte e quattro, WB, giusto? Penso di sì. Sì, sì, sì. Macchina, macchina. Oh, auto! No! Fatto. Ho fatto, lo vatti. Ci volevo investire al carello, delinquente. Infame, infame. Forse non ha capito. Qua, qua, qua. No, l'ho buttato anch'io per sbaglio. Ah, non c'è un mezzo sul tetto. No, sono dentro. No, non si può salire sul tetto. Una ferra, una ferra. Sono in Italia. Non è niente. Vai. Morti tutti. Morti tutti, let go! Regà! Basta, fe, fe, fermi. Calmi, calmi. Tutto nella norma. Tutto nella norma. Ma, che è successo, ragazzi, là dentro? Panico. Vabbè, resta il suo Bilbo Baggins. Ci impresta l'anello. Vabbè, e... Vai, vai con l'anello. E... Cazzo, abbiamo fregato i due a qui, portatrota. Eh, vabbè, dai, non fa niente, non fa niente. Ce n'hanno un altro loro, ce n'hanno, pensate. Ottimo, ottimo. Vai, vai, l'ho preso. Ce l'avevano loro. Zio Pera. E... Vabbè. 300, ragazzi. Oh, ma che stai chiedendo le lemosina fuori al supermer... No. Fuori al carrello. Sì, o per un. Quindi qua. Come un cuore dei mic... Come un bicchiere di McDonald's. Stai prendendo i panini del McDonald's? No, come con i bicchieri dei panini del McDonald's. No, tipo... Che vuoi, ce lo mettiamo la cannuccia? Eh, 50 centesimi in più. Le vuoi un po' di ghiaccio? Eh, un euro in più. Che le vuoi la maionese e il ketchup? Due euro in più. Eh, stiamo scherzando. E tu gli rispondi, lo vuoi il mio sediere? No. Allora. No. Ce la fai? Sì. Grazie. Eccomi qua. Vabbè. Che famo? A parte schi... No. Molliamo il carrello. Andiamo via dal carrello. Vabbè, let's go, bro. Corri, corri. Corri, corri, pisellino. No. Spara, pisellino. Spara, pisellino. Spara, pisellino. No, Alessandro Cirilli è arrivato. Dici del delinquente. Vamo, vamo. Oh, fu a flyer. Chi è? Craccato? Ma no, ma hai visto i colpi là? C'è solo lì in fondo. Come si vede? Va lieto. Eh... Boh, andiamo a prenderlo. Vabbè, magari c'è il team, no? Eh, magari c'è anche mio nonno lì. No. Andiamo, andiamo. Vedi che mio nonno sta giocando, eh? Magari se lo becchiamo contro è finita, eh? Ma no, mi sa che c'è il team, raga. Vai, faccio WV, dai. Butta WV. No, ma è uno solo, però. Ne pinga uno. Però c'è... La messa a terra. Ah, di nuovo l'italiano di prima, Fra. È quelli che abbiamo killato prima. Poi c'è uno di qua. Vado a prendere quello che pinga... Uh, sta arrivando l'amico. Quello sei sicuro è l'amico, te lo giuro. Te lo giuro. Finitelo, raga. L'avete finito, raga? Sì. Fatto, fatto. Sì, 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 sì. Fatti, fatti. Ho confermato, ho confermato. Era l'amico quello che pingava di qua. Erano ancora loro, raga. Ti è incazzato? Che ho fatto di male? Buona, domenica. Buona, niente, niente, niente. Finalmente sei presente. No, mi dissocio. Buona, domenica. Anche a te, alle sa. Aspetta che devo equipaggiare l'altro UAB che ci può essere utile. A posto. E niente, vamonos. Vamonos via. Allas... Allas neves della mananas. Vamonos. L'ha detto anche a me. Niente, niente. I moderatori vanno trattati male. No, mi dissocio. Il tuo team è nella zona sicura. Allora. Siamo in 66? Però i citri sono stati battuti, mi pare. Perché comunque... No? Ecco. Allora. I cheater che cosa? No, no. Ci sono, ci sono. Che ieri l'ho beccato in singolo. E gli ultimi giorni non ci sono stato proprio perso. No, ma che dici? Fra, pure il barbire mio, ieri, frai, è successo. Cazzo, condoglianze. E io l'ho persa 6-7 mesi fa. E pure il barbire mio, ieri, che è successo. Assurdo. Questo è l'anno, condoglianze, fra l'anno che, ti ho detto, l'ho persa anch'io 6 mesi fa. Eh, purtroppo, sai com'è? Lo sai, quando si arriva a una certa età, fra ormai... È già tanto, è già tanto. È la vita. Che devi fa? Gli animali non vivono quando noi. Cioè, beh, pensa. Noi siamo fortunati, brah. Cioè, 70, 80, 90 anni su tanti. No, attacca a grappolo. Sì, è la natura da tanto col mortaio. Mamma mia. Ma questo è bene. È appreso in pieno, porca prona. Mettetevi dentro, dentro, dentro l'house. Va, ti rovo a vita che abbiamo... Oh, ci pucciano, sono sotto, zio. Non li vedo. Ce l'abbiamo sotto casa. Ah, uno lo vedo, uno lo vedo. Uno, quattro. C'è un altro. Tattato. E viene una macchina e treccati in giro. Bombardamento, ha tirato il bombarda. Attenzione al bombardamento. Se quello muore. Gigi, Gigi, Gigi. Ma non voleva andare a terra. Chi ha tirato bomba? Malal. Eh, io, io. Ah, vabbè, ci poteva stare, però... Era rimasto l'ultimo. Sparano, sparano, sparano. Oh, chi è stato? Oh, chi è? Oh, bimbo. Pantilà, Nel. Dove, raga? Ah, non lo so. La palazzo di fronte? Eh, Tilanello, bimbo. Vado. La palazzo di fronte? Beh, siamo in faccia, raga. Ma in che senso? Beh, siamo troppo vicini. Cioè, vicino. Stiamo proprio qua dritti, raga, cioè. Il cecchino qua ci fa. Ma qual è la casa? Eh, ma sono anche i botti ci sono lì, raga. Sì? Eh, sì, sì. Quello là, mi pare che c'è una roccaforte. Oh, comunque qualcosa. Ho il sito segreto dei bot. Là c'è il sito segreto dei bot. Sì, ma un è sceso con il palazzo. Un è sceso, bro. Ti impazzito, bro. Ando a prendere un web. Vediamo un po' la situazione. Ma io non li vedo. Sì, c'è B-Bro, c'è B-Bro. Richiedo ricognizione aerea. Ah, eccolo. 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 Wow, e poi c'è stato un team proprio lì. Mamma mia. A terra, qui? Davvero a terra? Dietro? Sì, sì, a terra. Vai. Dimmi che c'è qualcosa. La maschera buono, bro. Eh, abbiamo quelle dietro. No, non entrate là dentro che è pieno di nemici del computer, raga. Fanno male. Non entra là dentro. Esci, esci. 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 Vai a letto. Ma erano i botte, bro. Eh, lo so, lo so. Abbiamo un team che ci sta venendo da fuori safe contro. Taglia. Questa è meglio. Dov'era, no? Alping bianco. Dici che si sono spostati già? Secondo me sì. Il tuo team è nella zona sicura. Movite, movite. Sali, sali. Let's go. Eh, non li vedo. Il cantiere è pericoloso. Eh, lo so che è pericoloso. Lo so bene. Ci sono morto varie volte. Non sono mai entrato qua. Entra è complicato, eh. Cioè, nel senso, è pieno di posti brutti. Dove si campra. Eh, non lo so. Vabbè, se c'è un altro. Ma non conviene andare. Nessuno ha un altro Wav? Vanno. Coricati. Coricati. Nessuno ha un altro Wav? Sì. Tiralo, tiralo se ce l'hai. Tiralo. Ah, no, no. Hai capito? Facciamolo. Ah, no, no, no. Eh, già l'ho comprato prima. No, l'ho capito, facciamolo. No, il carrello lì non lo possiamo fare. Non lo so. Forse si sono spostati, però, eh. Ma non muore più nessuno. Eh, no. Eh, no, perché adesso la safe è diventata in tre palle. No. Tre palle. Tre palle. Eh, due palle, volevo dire. Oh, davanti, davanti, bro, davanti. Ah, sono davanti, sono davanti, sì. Atterrato uno. Atterra uno. Atterra uno. Mi tiro la fumogena così volendo possiamo pushare. Il franco, il franco. Uno confermato. Chi ha tirato il grappolo e l'attacco aereo? Una terra in fondo. Oh, che cazzo avete fatto? Una terra. Arriva, arriva. Buono. Faccio cuore il fondo che ha trattato la strada. Uno, faccio. Non riesci a restarlo, tu. Non riesci a restarlo, tu, non riesci a restarlo, tu, non riesci a restare io, adesso io, adesso io, adesso io. Ok. Un olio l'ho confermato. È una ragazza, eh. Uno l'ho fatto. Come una ragazza. Tu gli aveva parlato una ragazza in inglese. Ah, ah, mio, I'm in inglese, what the, no, what the, raff, che è successo? Bella, raff, come va? Ah, c'è lo doubt qui, raga, ecco perché erano qua, c'è il lancio. Venite, venite. Eh, sono scappati. No, uno gliel'ho confermato io, eh. Gli altri sono scappati. Where are you, my friend? Where are you? Where is? Ah, mio. Qua sono andati. Se volete, eh. Ah, non c'è niente di interessante qua dentro. Pronto? 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 Raff. Pronto? Pronto? Entriamo dentro casa, venite, venite, venite. Ma avete, ma avete, ma avete, ma avete, ma avete, ma, nemico? Dove? Eh, boh. Non lo vedo. Ho sentito rumori, passi. Forse sono sul tetto? Andrà faccielo? Servirebbe un altro UAB, servirebbe. Non lo so. Eh, ma. Sono sul tetto io. Hanno fatto UAB nemico. Allora l'hanno preso dallo shop ora. Sono sul palazzo dello shop, regà. Merda, veramente? Eh, sì. Eh, sì. Hanno chiamato UAB o lì? Che l'hanno comprato ora dal carrello. Ma già che mi sento. Io sono sotto, eh. Eh, no. Stanno sopra il tetto, regà. Scish. Sono stanco, eh, a chi lo dici, fra. Sono stanco pure io, guarda, sono stanco. Se combatto ogni giorno, fra, combatto anche io ogni giorno. Ma me sono rotto. Mm, mm, mm. Che bisogna fare? È la vita. Se non combatti, vai al gulag e ti fai un gulag... No, un gulag... Capisci a me. Si combatte tutti i giorni. A meno che non si... A meno che non sei Gianlucavacchi e combatti sopra lo yacht prendendo il sole. Pronto? Big Brew, how many kills do you have, bro? Quante killi c'hai, Big Brew, tu? Quante killi c'hai, Andone? C'è gente, c'è gente. C'è gente a parlare con me. Mi sento, mi sento. Ok. Dietro, dietro! No! Ah, visto, visto, visto. Sì, aspetta, attento alla granata, attento alla granata. Vieni dietro, vieni dietro. Vieni dietro, vieni dietro, vieni dietro. No, questo puzza, portate. Fatto? Restalo tu, restalo tu, restalo tu. Restalo tu dietro, restalo tu dietro, Baggins. Lo tengo io davanti. Vieni io. Ok. Grazie. Quante erano, Big Brew, che t'hanno killato? Quella che avete ucciso, una donna. Una donna. Eh, cos'era? Zoe, lì, Zoe. Zoe, sì, Zoe Cristofoli. Zoe Cristofoli, la moglie de... de... de Teo. La gnoccona. Maschi della gnoccona. C'è gente... Mi sparano! La zona sicura è molto di Italia. La ruota, la ruota. Oh, 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 regà, mi serve la mano! Regà, mi serve la mano sotto! Arrivo, arrivo. Eh, me sa che non arrivate. Girova flashbang. Vabbè, l'ho fatto, dai. Che c'era, eh. Eh, la madonna. Eh, meno ma... Eh, ma io te l'ho detto, fanno schifo queste cose. C'è un altro, eh. C'è un altro, eh. C'è un altro, eh. Due, 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 due. No, non c'hanno... non c'aveva piastre, sì. Un altro e due sul tetto, eh. Aspetta, c'ho io la soluzione. Oh, chi me che mi ha sparito? Sì, comunque MK dicono che è meglio perché non c'è la aim assist. Questo è il cicilo. Grazie mille, Raff. Sono 11 kill adesso. Aiuto! Ah, c'era... Vedete, vedete che c'era le piastre. Grande. Mi sembra lo zanetto più grande, però. Uh, ne ho craccato uno con il grappolo. No, 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 il gas. Vinti a quanto corre. No, no, no. Come si esce da qua dentro, regà? Esci, sciocco. Esci. No, regà, ma sa che sono morto. No, non direi così. Eh sì, regà, è troppo veloce sto gas. Qua, qua, qua. No. Una parte. Marissimo. Sono morto io, guarda lì, guarda. No. Sono morto per il gas, è velocissimo. Ma pure io, pure io. Perché mi sono bloccato sotto? Non c'era un posto per uscire. No, morire per il gas, no. Morire per il gas, no. No. Morire per il gas, no. Era tutto il tetto, bastardo. Ah, peccato. Mannaggia tutto, bravo, sono rimasto bloccato lì, non c'era un po', ho dovuto fare tutto il giro per uscire. Non c'era un po', ho dovuto fare tutto il giro per uscire. Non c'era un po', ho dovuto fare tutto il giro per uscire. Ci sta comunque come qua. Comunque il gas leva, madonna, ma leva un botto di vita, non pure stare fuori. Eh, per quelli che giocavano a bordo safe. Che distruzze proprio? Ma è meglio, ragazzi, perché la gente che gioca a bordo safe fa schifo. No, quello sì. Vincono con due o tre kill e stanno lì fino alla fine, però è meglio così. Ah, lo facciamo una cazzo di wino, no, uno. Dai, dai, questa c'eravamo quasi, peccato, regà, peccato, peccato. Comunque, mannaggia B-Bro, mannaggia. Dov'è? Comunque, sta classe l'adoro troppo, mamma mia, ta-ta-ta-ta, il mitragione, tu-tu-tu-tu-tu, 75 colpi, quindi a voglia. A voglia, spara faccia a faccia. Quando ti becchi pure due o tre di loro non finisci mai colpi se sembra sparati. Sì, ricarica lento, però prima che li finisci. E poi cacci le doppie pistole. Bello, bello, è divertente quella classe là. Però le doppie pistole devi sapere le usare, nel senso che c'hai... Cioè, comunque non puoi sparare da lontano perché alla fine... Cioè, c'hai due armi così, non è che c'hai chi se non puoi puntare. Quindi... Devi prendere poi il punto giusto dove andare per poi andargli vicino e sparargli da vicino. Però a vicino fanno male. Pronto, pronto. Allora, Thomas, ci stai, Thomas? Allora, facciamo questa e poi vieni tu. Allora. Che stavo a dire? Sono dimenticato. Preparate l'attrezzatura. Lancia dopo. Malboro Gold ho killato. What the moment, sto accorgendo. No. Malboro Gold. Perchè uno si deve chiamare Malboro Gold? Vai, mi tieni giunto tra gli amici, Thomas? Mandami la richiesta. Puto esclamati qui in chat. Sì, ci sono, voglio. C'è pure gnagna stasera, Raffaele, con me. C'è pure gnagna. Ah, stasera, stasera. Dai. Aspetta. Allora, come in. Allora, come in. Allora, come in. Allora andiamo? Allora, fatemi pensare Osservatore no perché è tipo il superstore Della vecchia mappa A cave Sono andato alle cave Andiamo alle cave Andiamo alle cave No così arrivano gli orecchi Atteriamo l'anello Strano Molto strano Tutto strano Tutto tranquillo E' scelto là? Sicuro? Sì 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 l'ho visto l'ho visto Sì sì è acceso Oh qua 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 Arrivo ho preso la custom che è molto meglio Non mi fate a terra sto arrivando Ok uno l'hanno killato A posto Bilbo Baggins Se l'è fatto No l'ho fatto io Ah L'ho fatta lui Ah ok ok Ma ha dato il nome tuo Non so perché Vabbè E gli amici? Vabbè Io rutto 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 No 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 Ho preso Ho preso due bombe Mi sono usciti Peccato Mi serve un WB Sarebbe interessante Almeno vediamo se stanno gli amici E invece nulla Vabbò Io ho 10.000 Uh armi Armi raga io 10.000 Facciamole Uh regà ma chi è quel pazzo Che ha lasciato WB qua a terra Comunque l'ho tirato regà E stanno tutti qua Stanno le case qua Dopo la cava eh C'è che qualcuno arriva Ragazzi io vado a pushare Ma chi vuole venire con me a morire Venga con me Ma facciamo Aspetta aspetta Luca c'è lì Ormai Lo so lo so Lo so già qua io Ma un carrello Dove sta Dove sta il carrello Di fronte Di fronte Eh ragazzi Ma Ok Mister bombastic Zio ho killato Eh questo l'avevo trovato Tembo No Chi è che mi ha salvato Madonna zio Io Team annientato Eh no no C'è un altro team davanti C'è un altro team davanti Regà Altro che annientato Sta qua sotto Ma lui mi ha dato team annientato Sì sì ma c'è un altro team sotto Eccolo Eh dai No me l'ha tirato lui L'attacco aereo Attento attacco aereo Spostatevi da lì Spostatevi da lì Oh Il blu Eh No Non l'ha chiamato Eh parlo arabo Parlo Te l'ho detto io Te l'ho chiamato io Eh regà Ascoltatevele Goal Ve l'ho chiamato io Che schifo di M4 Madonna A terra il cerchino lupo A terra il cerchino davanti Dove 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 Qua Eh sono in tanti Sono almeno 3 eh questi Prova a prendermi la casa Qua Visto A terra A terra A terra A terra Confermato No Non me l'hai confermato Eh no Ho fatto il mio C'è un altro Ah eccolo 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 E non riesco a Confermato Confermato C'è deve sta un altro C'è deve sta Ah no Me l'ha data la kill Me l'ha data Eh si Te l'ho confermato Io l'avevo visto dopo Ok Eh ce ne deve sta un altro Ha scappato via Eh no Erano 3 Minimo 3 Vabbè niente Si è scassato Facciamo Facciamo le armi Chi do comprare anche La cassa piatta E munizione Eh ma non ci abbiamo Tutti i soldi per farli Oh davanti Davanti uno Questo è scelto così Tranquillo No Ma quello è morto Sì Ah no no È vivo Ah è quello che ho Chilato io prima Era Torna da prendersi Le armi lì sopra Ma è un pazzo Ho fatto un altro Io fra Sì 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 C'era uno che ci aspettava Qua sotto Ho buttato Cassamonio Dove Qua Ah arrivo 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 Che non le ho È bugata Non la fa prendere No vabbè No vabbè Sì l'ha presa No è che c'è sta il Il Come si chiama Lo zainetto davanti Quindi si bug Vabbè Mannaggia Ho sentito tossire Strano però eh Andiamo No No è impossibile Com'ha non tossito Non c'è il gas Tenete i soldi Tenete i soldi No si sono Bancherati Ma l'ha detto La roccaforte aperte No No Sì Quindi questa qua La possiamo prendere Vi lascio i soldi al carrello Ah l'hanno già preso L'hanno già preso Vi lascio i soldi al carrello Venite Qua Eh che dobbiamo comprare Che compro Ah Wav me lo fa prendere Eh Eh io Wav dovrei prenderlo È fondamentale Possiamo riattivare Possiamo rifare i soldi In uomo con questo Allora Io ho comprato Wav Così nessuno Se piglia collera Poi Eh Dai Me compro Un cavolo Oh camion Camion Regà Camion Camion Chiamo Wav Gli altri sono scesi prima Eh questo sta baitando Attenzione agli altri Sì c'era l'altra casa Sono all'altra casa Attenzione agli altri Stanno arrivando Gli altri dall'altra casa Regà Attenzione Fatto No guarda il Wav Guarda il Wav Stanno arrivando in tre qua Ok 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 Oh sopra Qua Ce n'è uno qua sopra Fatto Bogba Terra Fatto Quello fatto È confermato Sì sì L'amico dove è andato Eccolo qua No no Era qua sopra Che ci aspettava No no L'ho fatto L'ho fatto È lanciato pure il bombardamento Sì ha lanciato anche il bomba Aveva lanciato Ah ma io come ho visto il camion Perché ormai è sgamata la cosa Quando arriva uno col camion Gli altri si fermano Gli altri si fermano prima Quindi quello del camion Scende da sola Gli altri si mettono tipo Sopra la montagna Sopra le case a sparare Ormai è sgamata come tattica Non sempre però Diciamo che la maggior parte delle volte E niente Bisogna fare sto contrattino Così facciamo i soldi per tutti Compriamo le sdcd Capito Mi hai aggiunto Thomas Mi hai aggiunto Stai giocando Dopo di questo Entri tu Entri tu dopo di questo Thomas Thomas Vai dopo di questo Entri inizi ad accendere Tu e se che io mi riparo Un po' Ma la notte da fare Ok faccio la cassa qua Fate le altre voi regà Ok questa aperta Manca l'ultima Posso Ho capito Piano piano È tutto chiaro Chiaro Basta Ma ne vado Ah c'è tutto pieno E regà peccato Qua da me c'è un bel po' di roba Vabbè Oh c'è una taglia È uscita una taglia Però Perché non la vedo Dove è finita Forse è sul tetto Ah aspetta Ah si sa Ok ci sono le scale a posto Da ora deve stare qua Sì è sul tetto Mi sa No Neanche Oh Ah c'era un altro piano Trovata Vabbè la taglia Uh la la Uh la la Giustino No Ah ah Eh prima un carrello però Ah sta sulla taglia E vabbè chiediamo la taglia Andiamo al carrello Uh c'è un ideone Elicottero ragazzi Elicottero Andiamo con l'elicottero Li spacchiamo tutti È sicuro O ci spaccano loro Li spacchiamo noi Ma non lo so Però insomma Più o meno Non capito Chiaro chiaro È tutto chiaro chiaro Basta me ne vado Andiamo No come taglia sottratta Zii No No e dobbiamo Facciamo prima le armi per tutti Andiamo al carrello qua Andiamo con l'elicottero Facciamo prima le armi E poi andiamo dai Sì Prendiamo anche l'altra taglia Nel frattempo Allora aspetta Fammi pingare Questa dove la pinga Come taglia sul tetto Sì ma non fare esplodere l'elicottero È una parola No Spero di rimanere Rimani in polo che vado io Rimani in polo che vado io Eh aspetta Aspetta È da capire dov'è però Non scendere Se è troppo No è troppo complicato Allora andiamo A quell'altra Quella dietro Aspetta la pingo Vai valla a prendere Basta me ne vado Un altro lato E al secondo piano Devi entrare dentro E salire sopra No Via 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 No tranquillo 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 Hanno chiamato Wavie Nemico In polo Ah Vabbè dai Con tratto Ancora loro Ci han dato Vai Stanno arrivando Ci pushano eh Come è possibile Che sono al mare Come ci pushano No Sì ci hanno pushato Scendete 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 Sio porco Ma che ti resto Coprite raga Ci sono io Ho detto Sti ricotteri maledetti Fa schifo Sti ricottero da pilota Oh Sotto Attenzione che ci stanno le scale per salire Ho tirato il bomba Niente Ho tirato Ci hanno tirato un grappolo Attenzione L'ho tirato anch'io un grappolo L'ho tirato Stiamo al secondo piano io Un è salito al secondo piano No Da dietro Da dietro No Una terra Una terra Siresta No Che si è desolato No Io sbappevo Sbappevo No No Un altro da fuori Mi ha fatto Che palle No raga Mandate scende giù Adio Mannaggia la madonna Mannaggia Poi uno deve bestemmiare Stiamo bene sopra Tanto devono salire loro Cazzo Oh evasione Oh che culo Andiamo a loadout Se c'è La cantante Comunque La cantante Madonna Madonna La cantante Vai dai Tempo Scorri 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 Cazzo Alla fine Ci fa rinascere Di nuovo Evasione Evansione Dovremmo nascere tutti Fattene anche il culo Che mi ha fatto fare Doveva aspettare il lancio Fammi di quanto manca Ah l'ha tirati Uh Andiamo Andiamo E ci vediamo sul lancio Questo qua sotto di noi Dai 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 Siamo ancora in 80 Quindi tutti i camper Madonna Madonna E quanto ci mette Per Ci ha chiamato Che siamo tanti Sul loadout Ci ha chiamato Sono scesi sulle case Davanti a noi Queste due case Davanti a noi Piccoline Sul tetto uno Sul tetto Qua uno Non abbiamo muni Quale è il casino Dai non è andato a terra Craccato Ma chi è sottratta What perché Hanno ucciso quelli Hanno ucciso L'uomo ragno Chi sia stato Non si sa Raga facciamo una cassa Muni al carrello Non abbiamo niente Andati Sono andati Al cimitero Questi Dobbiamo fare Una cassa Muni Non abbiamo niente Sì Eccolo là Dietro al muro È andato già Dietro al muro Quanto sta correndo Fingoroso Sono tre Che che fa una cassa Non camion Ma faccio io Perché pure io Sono No No Sopra Sopra Secondo piano Arriva Uno scende Sella Sella Vice Secondo me Viene a prendere No Non è morto Come non è morto Eh sta tornando indietro Il camion No No Come andrà Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vai 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 Vieni qua Vieni qua Coprite Copri qua Vieni qua C'erano due Copri qua Non accorti Atterra Atterra quello della porta fuori No è entrato da fuori Entrato da fuori Ve l'ho pingato Sta fuori Fatto un altro Al carrello Al carrello è andato Attenzione C'è uno qua Io non ho colpi Se ne è andato Se ne è andato Ma deve stare qua in zona Che è qua in zona Attenzione Attenzione Oh cazzo Che c'è Butterò da nipo la cassa munizioni Che dice l'altro Come cazzo sta cassa munizioni Eh no Non c'è forse da comprare Non c'è Non c'è Eh sì Sì Non c'è in tutti i carrelli Faccio guabbi Faccio guabbi Non c'è in tutti i carrelli Trovate Trovate Ah io non c'ho più munizioni Come è possibile Dove sono tutti i corpi di questi? Uno da me Uno da me Dove Ha visto What Dai È in casa È in casa Attenzione Ma mo scende Non ho fatto mettere a terra No mi hanno distrutto What No è rotto È rotto È rotto È rotto È rotto E siamo tutti a terra Confermati 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 Ah mi confermo Dai mi confermo Mi confermo Mi confermo Eh ci vuole Ah ma è un full team Comunque Dobbiamo campare Eh sto cercando qualche arma A modo che queste devono venire qua Devono crossare dal Devono venire da lì Dal cimitero Devi pensare dove possono venire Dal cimitero Dal cimitero Questa pure che fanno il giro a destra dalla montagna Eh magari Ce l'abbiamo di fronte E li prendiamo schiaffi No invece stanno girando là E quello là Ma non ci conviene cercare il push No non il push Io voglio bloccarli sulla strada Ah ok Anche se è un po' difficile Perché purtroppo il gas Ancora non li costringe Infatti stanno in casa lì Questi sono sparati con un altro team Chi è che sta sparando? Oh io voglio solo che Escono da quella casa Vanno qua sulla strada Ma si stanno sparando? Non sbaglio Si uno Uno è lì a terra Lupo destra 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 Eccolo là Si Confermato Bella Goto Ho sciolta Ben barata Ben barata Ben fuori dal gas Lì Mi ammazza così Che ci avevo appena preso le armi Tacite pippo Loro Eh ma non è finito Non mi ha dato team Ci sta ancora qualcuno di loro qua Mi vada nessuno qua C'è devono stare C'è devono stare per forza Ho avvi nemmico Ho avvi nemmico Ho avvi nemmico Ho avvi nemmico lì Secondo me stava arrestando qualcuno Si può darsi che quello si è arrestato Ma deve venire fra Ho avvi nemmico Fino a tagli alla che tu sei lì Mi pare strano comunque Non è cito nessuno Cioè ho killato quello e basta Eh quanto pare O che hanno la maschera Stanno aspettando un po' E poi partono No sarebbero già partiti Cade subito la maschera No sarebbero partiti già La maschera qua dura molto di meno E' che hanno fatto il giro Tutto a sinistra E sono andati nell'acqua Eh potrebbe darsi Però Si riuscita più alla taglia no? No No cassa soldi Aspetta Presa io Vado sotto Tutto acqua Bella Rocco Rocco si frega No non è Rocco si frega Anche la taglia Buon pomeriggio Rocco Eh la taglia arriva proprio da là Ma poi siamo ancora 40 cristiani Eh ti vorrei chiamare Vice Bombarda eh Vi hanno visto eh Vi hanno visto No vabbè ma impossibile Zì bombarda a mare dai Ma Davanti davanti Lo sono fatto Occhio alla mina eh Lo so lo so Ma lì ma non ci vado Ah si vado Sto pazzoide Vra No 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 Quanto ci metto Ma taglia a muro Ma taglia a muro mi sono Tutto da caso Nudo con i brividi Camperiano bro Camperiano Davanti il tetto Sto prendendo Eh lo so lo so Non puoi non farti vedere Da quello sopra Come sto messo A livello di munizioni Sto messo malissimo Anche di piatto Tutto non c'è un cazzo No non ho sparato Ho detto eh Lo parlo arabo Quello sul tetto E la taglia Craccato due volte Eh non gli fai niente Ci hai fatto spottare Che stiamo qui così Sono più di uno Adesso sanno Che stiamo qua E infatti Eh lo so E lo so È normale Guardalo qua Lui spara Mannaggia 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 I santini Ehi Problema che abbiamo Anche un team Dall'altra parte Che ci arriva dal mare No sono troppi Hanno tirato pure il bomba Basta Devo buttarmi a mare Devo andare sotto Sotto il pond Per forza Devo giocare Sott'acqua però Eh per forza Sì ma non abbiamo ripari Qua se ci sparano È finita Uh se stanno a buttare Se stanno a buttare A mare pure quelli Oh Una terra di quelli Eh ce n'è due a destra Spostiamoci Spostiamoci Andiamo dietro Qua Quanto ripo rimane Sott'acqua 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 Non c'aveva munizioni di assalto Io ce l'ho Ah no ce l'aveva Ce l'aveva infatti sono erano qua a terra Eh ma buono Qua 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 Bruco era me l'ha minchia Lui un shot sott'acqua L'ho visto l'ho fatto Sei vivo? Le sei restato? Sì sì L'ho killato l'ho killato quel tizio Si è buttato No ci è buttato Si è buttato Io sto caricando sott'acqua Sì Mi piace sott'acqua io Ma mori Mori Bella Stai benissimo là Milo Ce l'abbiamo sul ponte Cazzo U avvi nemico ha chiamato Deve essere una bella kill È normale che godo Che palle sto Sto gasso Si capire l'acqua Parca tra Vengo da te Aspetta aspetta Maledetto gas da merda Non mi faria animare Siamo Due vitri Vai piedi fuori Eh lo so Che devo fare Hai l'assalto Eh lo so Dove cazzo stanno gli altri? Ah ma stanno sull'aereo Sì sì Su Può essere Sì Sì stanno sull'aereo Sì che schifo Si sono messi sull'aereo Si stanno a tirare Grande dall'aereo Uno sta scendendo ora Non mi prende la roba Non mi prende la No no ma finisce tutto così Eh finisce col kit è morto del gas Che questi due cazzo si sono buttati Non c'ho la maschera No sto morendo Sto morendo per il gas Perché non muore Quell'altro ci avrà la maschera Fio No 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 Ci aveva le siringhe Guarda dove era Guarda dove era Ci aveva le siringhe Era nel parcheggio Ma mi sa che ha fatto qualche bug fra Era con le siringhe nel parcheggio No però no Peccato Sacchi di merda figa Dai ma di che stiamo parlando Fra no ma non devono togliere Che l'elicottero può rimanere là sopra Che cazzo Ti rendi conto Che cazzo di finale Fra sono rimasti con l'elicottero sopra A girare E poi dopo Quando alla fine si sono lanciati Da sopra l'elicottero Là dall'aereo Ma te lo dico Mirchetto Uso le prime pistole Le P890 si chiamano Sono proprio le primissime Eh vabbè Non lo so se era un bug Fra io ho visto che l'ultimo era nel parcheggio Con le siringhe in mano Ma non lo so se aveva la cassa munizioni Quindi si è messo le siringhe Che sfida cazzo Peccato Abbandono? Eh sì Thomas mi hai aggiunto? Guarda io vado Ci vediamo in live Buona sega Buona sega Perché sono usciti tutti E è uscito pure Salvatore? Eh ma non so se mi è arrivata la Come si fa a vedere se mi è arrivata la richiesta? Mi hai mandato la richiesta Thomas Come ti chiami? Amici Fai delle richieste Come ti chiami? KTM Res 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 Qua Qual è il tuo ID? Perché ce l'ho 17 richieste Ma non so chi Chi sono Ah vedi? Ah Coco L'ho accettata ora Coco Amore mio No che è successo? Hai bugato tutto No Ok ha detto sì Dusty Baby Dusty Baby Parte sempre Sempre mi parte Ce l'ho Qual era il tuo ID? Ti faccio vedere le pistole comunque Mirchetto Ricky? No non c'è Ricky Padre Maronno Tommy Tommy Perché non vedo la tua richiesta? Vedo la richiesta di Memento E se bugga È tutto a posto Non leggo nessun tome Vabbè se è buggato Come non vedevo la richiesta D'altra volta Mandami la tua Dai dai Mandami il tuo ID FPS Che è il recupero profilo? Che sta succedendo? Che sei impazzito? Richiesta amicizia? Scrivimi il tuo ID completo in chat Che ti aggiungo io Che sei buggato Non ti vedo tra le richieste Tutto un bug sto gioco Allora nel frattempo Vai su Che hai fatto? Vai su Warzone Signor Baggins Vada su Warzone No Perché sono diventato io lost? Perché ha abbandonato il party Perché ha abbandonato il party? Impazzito Forse devo andare via Ok Armi queste qua Sono le pistole che sto usando Sono le prime raga Le P890 Comunque Aspetto che un attimo Che Tommy Mi scrive in chat Il suo ID E Lo aggiungo io Perché sei buggata pure La lista amici Tanto per cambiare E mi dice che ne ho 17 Cioè Compresa la tua Però non me la dà Da accettare Mischi Mick Paki Shark Viking FPS Tony Non lo vedo Fammi bene Altro po' di caffè Tutto bene Tutto bene Capoccio Sono arrivato in secondo posto Ma non puoi capire Come abbiamo perso C'era un tizio dentro Un parcheggio nascosto Con le siringhe in mano A farsi Ero rimasto 1v1 E Alla fine C'era il gas Dovunque Quello sto Stava nella safe In un parcheggio Con le siringhe Verdansken I bug di Verda Sono tornati Anzi Mo' io lo devo scrivere Nel team Mo' io lo devo scrivere Nel team Eh non lo so Tommy Tommy Riesci a scrivermi l'ID Ma poi Bruno Che fine ha fatto Tommy Tommy È morto Dommaso È morto Dommaso Ok ok Ma l'ha scritto Ehm Allora Raggiunge amico Quarantuno Aspetta Quarantuno Zero quattro Zero Due Sei Sono un ladro di fiori Oh Passa fa L'ha accettata Raguito baby Michelangelo Ma ma non ti vedo qua Ah no invece ti vedo Ti invito O sei riuscito a partecipare Sì su tu Aspetta che sei buggato Oh 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 No non mi crashare No zio No No Eh lo sapevo Ma di che stiamo parlando Aspettate che riavvio Eh devo riavviare Che palle sto gioco Che palle sto gioco Ma che palle sto gioco Più che altro sai che ho paura Perché adesso siamo a dicembre Stanno per arrivare le vacanze Le feste E se non risolvono adesso i bug Non risolveranno più Ci faremo tutte Natale e Capodanno E tutte le feste Con i bug Perché è successo già l'anno scorso Con Verdask Arrivata sì Solo che si è Mi è crashato il gioco Sto arrivando Ciao Vincenzo Buon pomeriggio Eh sto riavviando un attimo Il gioco ragazzi Vediamo un attimo se Dovrebbe fare presto Spero No Dai Ok in teoria sta riavviando Entro Ok Dai io faccio altre due partite E poi vado Sennò questa sera Sono Sono cotto Sono cotto Che abbiamo la serata con Giada Saretta E Gattuso Ah pensa Accetta sì Ma l'avevo già accettata Vabbè Ma guarda Talmente No Lascia sta sto gioco E' talmente bagato Che mi è arrivato ora La richiesta Vabbè Di amicizia Ma io gliel'avevo già mandata Eccolo qua Oh che è successo E' un pazzino Che sta facendo sto gioco Vai ti ho invitato Ti ho invitato A Bruno Secondo me Secondo me è crashato Ma pure io Non ti credo Pure io da volte So sfortunato Cioè Lascia stare Uno più Non mi devo beccare Quello che ha imparato Nel parcheggio Con le siringhe E vince così Anzi Devo avvisare Quelli del team Devo avvisare Vediamo E un pazzino Devo avvisare Va bene Ho appena scritto Che dobbiamo fa' Oh che connessione Aspettate che non sta trovando la partita What? Sta impazzendo sto gioco Ok è andato Ah ce sei Bruno Ce sei Ah no perché sei sparito Allora vediamo se ti vedo Aspetta Allora c'è Bruno C'è 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 Baggins Baggins No Perché non me lo trova Aspetta che vedo se ti cerco dalla vetrina Se ti vedo Anche perché ho riavviato il gioco Baggins 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 No No allora invitaci Invitaci che entriamo Entro io da te Invitami Non ti vedo online È sempre un bug Non ti vedo Invitami tu Eh Vediamo se nei recenti lo trovo È Baggins C'era c'era Gli è crashato probabilmente Come era crashato a noi Prima Eh non lo vedo fra Pennec Felice Fai poi sì Nei recenti non c'è Se ne vedo Squadre recenti Eh no Mi dà altra gente Che non c'entra niente Non c'è Zecca proprio niente Squadre recente Parti forse Ah trovato No non me lo fa invitare Questo amico è offline Ma non è vero che sei offline Invitami Come si fa Come come si fa Mi hai invitato prima Tu mi hai invitato Devi andare Devi andare negli amici Come hai fatto prima Vai negli amici Mi cerchi Metti lupo Metti lupo bianco E mi Vai clicchi sul nome E fa invita Oh ma perché si blocca Da solo Fa tutta da solo Io non ti vedo online Se no non fa niente Bruno dai Tanto io mi faccio giusto Due partite E vado anch'io eh Dai dai Tanto mercoledì Giochiamo Oh accettato A posto A posto Riuscito a fare Entra Entra Eccoci qua Eccoci qua A posto E Ah dai 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 Eh Baggadissimo Io ti vedevo Non mi facevo invitare niente Vabbè 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 con quartetti Tanto due partite Poi devo andare Vai Sì sì Sei tu Sei tu Alla 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 Vai col caffettino Bru E Bru E Bru E Bru Non Bilbo Baggins Ma Mi chiamo Bilbo Ma che domanda era Che domanda era Ma per noi ci vogliono passare Setticci Eh perché Un po' Tanti problemini Cose che devono ancora sistemare Di qua Mentre l'altra piattaforma Sta un pelino più Più avanti Su alcune cose Per quanto riguarda Gli streamer Qua Ancora devono implementare Un bel po' Di roba Di roba E Essendo che Si sperava che lo facessero subito Invece ci vuole ancora un botto di tempo Allora molti Ormai Molti vogliono passare di là Ma calcola che di là Non puoi fare nulla Cioè nel senso puoi fare solo live E basta Non puoi pubblicare post Foto Video eccetera Fai la live E basta E a me questo Che non mi piace tantissimo Nel senso che È tanta roba Però Cioè o fai la live O fai la live Punto Cioè non puoi fare altro Non puoi scrivere niente Non ci sono Sei limitato Sei limitato a far solo la live Di là Eh Però Ripeto Nel senso io sto sperando Che fanno come Quella piattaforma Di là Che praticamente Ha detto Ha cambiato le politiche E Ha dato la possibilità A chi è partner Di poter streamare Anche da altre parti Dicono che vorrebbero farlo Anche qua Però al momento Noi partner Non possiamo Quindi fin quando Non aggiungono le politiche qua E anche per questo Che si sono scocciate Perché di là Gli altri possono streamare Dove vogliono Anche se sono partner Sì sì Quando parte Non si sente Non si sente No dicevo Dicevo che Noi qua partner Non possiamo streamare Su altre piattaforme Invece Di là possono E allora anche questo Noi Stavamo aspettando Che cambiassero le politiche Ma ancora non le cambiano Quindi Alcuni si sono scocciati Anche di sta roba qua Cioè nel senso È anche in realtà Un vantaggio Per la piattaforma Perché se io Nel frattempo Streamo anche da altre parti Lo dico Guardate raga Potete venire anche su facebook Per dire no Che sono anche lì È un vantaggio Anche per la piattaforma Però ancora Non aggiungono delle politiche E quindi al momento Diciamo che No scendiamo qua sotto Bello bello Chiude giù Chiude Chiude a mare Scendete Eccoci Eccoci qua E c'è FIA Ah non lo so Ho sento una cassa Qualcosa Che è stato Sì una cassa C'era data proprio qua L'altre due Sono più distanti Vai questa Ci vado io In fondo Questa non All'altra Sembra libero Ne ho trovato solo La mitraglietta Non ce l'ho assalto Vabbè facciamo Bello Tanta roba Avevo finito subito Avevo fatto i soldi Come ne resta l'ultima No è finita A me mi ha detto Resta l'ultima cassaforte Ma no L'abbiamo fatta Tutto il treno Eh anche io L'ho sentito Vabbè Altro bug Va via C'è nessuno Eh li pinga L'altro carrello A me li pinga Stanno sul carrello Qui Come si chiama Sto posto Eh vabbè Sono quattro Ma non dice il nome Stanno anche sparando Eh io quasi quasi Andrei a prenderli Non si aspettano Forse il push C'è qualcosa C'ho Sono anche divisi Sì eh Sono anche divisi Dovremmo provare ad andare Peccato che è finito l'UAV Nooo Ecco qua Eh ma adesso purtroppo Siamo qua Dobbiamo andare Per forza Pegliamoci una casa Pegliamoci una casa Perché adesso verranno Loro da noi A spararci Regà Sanno che stiamo Andando a pusharli Sì Ci hanno già aspettato Stanno già sulla montagna Che ci guardano Sono già qui Attenzione Camperemo un attimo Facciamo ripusciare Allora Regà Purtroppo sanno Dove siamo Oh qua da me Guarda me Eh ve l'ho detto Regà Non si può uscire Fuori dalle case Adesso Sono piazzati Nooo Ti viene a sinistra Ti viene a sinistra Dietro al muro Dietro al muro Ok gg Uno è confermato Siamo due v3 C'era un altro 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 Come mi ha fatto Arrivò un altro Arrivò un altro Eh buongiorno Mi ha fatto Mi ha fatto quello dietro Mi ha fatto quello dietro Vai Tommy Vai Peccato peccato Sì Giga ricarica Giga l'ape maia Figa eravamo lì a fare nemo Eravamo a fare nemo Fatto L'ultimo E' in mezzo l'ultimo Fatto Vai Sì Dov'era l'altro Dov'era l'altro Tu l'hai visto Eh no Luco Non mi ha fatto Quello nero Basta Dove andiamo Sì dove si è camperato Questo Dai mo mi deve Fa perdere il gulag Sto cretino Dove sei nascosto Eccolo là Eccolo là Godo Godo Grande Grande luco Godo E ieri è rimasto Ultimo colpetto E mi ha dato una mano Il juggernaut A ucciderlo Sì Eravamo messi Tutti e due Rossi Washotissimi E c'aveva il juggernaut Dietro che mi ha dato Una mano Meglio Meglio Levate le sim Le sim Memory Allora Prendo Cosa c'è qua Dov'è là Attenzione Ho preso un po' Di soldini Quanta roba Ho preso il mini bar Questo che è Oh il tac Vediamo è meglio del Sì meglio dell'M4 C'è gente che spara Nord est 28 Hanno restato Regà Qua al carrello Alla torre Hanno fatto Tre rest O due addirittura Potremmo andare Stanno con le pistolette Vai 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 Sotto Anche tipo Non c'è niente Stanno sotto La torre Si sparano Oddio Si sparano Regà Qua sopra Forse uno è qua sopra No no Non girate Dove sto girando io Dovete girare a sinistra Regà È sul tetto Sul tetto Sul tetto Apri apri Entrate dentro casa Entrate dentro casa Non state fuori Non state fuori Stanno sul tetto Regà Un altro team qua Stanno sul tetto Lì sopra Esatto Uno è sotto Sono entrato sotto io Anche qua gente Attacca il grappolo Mi ha tirato No attenzione Attenzione Baggins Entra 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 Non vi fate mettere a terra Traccato lì Eh non ci possiamo muovere noi Baggins non sta fuori Fin quando c'è il grappolo Ok Mi hanno visto Mi hanno visto E' un altro che due E' un altro che due Sono qui due Sono tre Sono in tre Sono in tre Sono in tre Sono in tre Quattro in realtà Attento attento Prenditi sempre un riparo Prenditi sempre un riparo Quando spari Una terra lì Ma vai affanculo Sempre tu Mi ha detto che devo andare a fa Capito A quel paese A quel paese Eh A quel paese Eh Ma sempre lui Deve andare Che io Che maledetto Ringuendo Non fa Non fa Una gappa ti interessare Vado io Vai 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 Oh c'è la gente qua Piano piano Buchi Ok grazie Eh non mi fa Ah Ho fatto io Grazie Comprato un hub Vai Let's go bro Andiamo Sempre due stupendi Che bello Beccare il team italiano contro Che si incazza Ma che io Ma che quel mona Che sbatte la porta Bru Ora vorrei prendere la taglia Però non me la fa prendere Ah è sopra Let's go Ciao bro Ciao Francesco Buon pomeriggio caro Buon pomeriggio Buona Pasqua Ah no Oh c'è qualcuno Al carrello Regà Attenzione Da voi eh C'è gente da voi La taglia La taglia La taglia La taglia La taglia La taglia A terra A terra eh Attendo eh Se sono più di uno Ah sta scappando What C'è un altro C'è un altro Non è a terra Uno l'ha messo a terra Eh Ci sta qualcun altro C'è uno sotto al ponte Eh sta in acqua Si è buttato a mare Mi sa eh Guarda un po' Ah Era solo la taglia Ok È andato Era sotto acqua Era andato Vedevo se rinciamo A fare un guagli Allora io un guagli ce l'ho Buon pomeriggio Biagio 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 Andonacci Lui si chiama Biagio Andonacci Se riesce a fare un guagli No ce l'ho Ce l'ho No ce l'ho L'ho comprato io Raga Eh fatti ma Eh fatti un'arma Se ce l'ho Ma voi mette un'arma C'è l'ho eh Ce l'ho volete fare voi Io vado a No 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 Ma me la compro io Dai c'ho 5000 Se voi la volete Io mi compro l'arma Beh Ho preso il mio RPK Che è devastante Poi la mitraglietta C'ho la fenneca Va bene Ok c'ho 5 kills Possiamo andare a prendere La tuggles Qua Ho trovato una Autorash Prendete qua Uh Ottimo PC Preso io Da prendere la macchina Ho cacciamoni Eh la puoi lanciare Per favore Sì Allora Vabbè vado io un attimo A prendere la taglia Poi vengo a prendere Ho trovato la hammer Elettrica Bella Ho trovato la via Anch'io Ah ottimo Ottimo Tienilo Tienilo C'è una maschera Del gas La prendo io Dai Ah è salito sul muro Ma dov'è sta taglia Dovrebbe stare Eccola qua Presa Arrivo da voi Non è manco lontana Tanto lontana Alla charism Dov'è il Guarda dove sta Il coso per riparare l'auto Aspettate sto riparando la macchina Che aveva poca batteria Venite qua nel frattempo da me Avvicinatevi Andiamo a prendere la taglia sua Posso? Buongiorno Pronto? È sua quest'auto? Buongiorno No questa l'ho rubata Però è tutto regolare È elettrica? È elettrica Elettrica Sali Bellissima Non me l'aspettavo È tanta roba È tanta roba Diciamo che potrebbe solamente Sali Potrebbe esplodere la batteria Però non vi preoccupate Ah c'è pure il computer di bordo È bello Tira uav Se ce la tira uav Vulo Andiamo sopra Vulo Dobbiamo salire di qua Dobbiamo salire Dai dai Si vola 130 Marti e gari Sono due Sono due Dai scendete Scendete Hai uno perché uno è scappato Mi ha fatto scappare In volo In volo Si Ma mo questo dov'è? Che lo pinga sopra Ah lì di qui Bombardamento Zia Attenzione bombarda Ha tirato bombarda Tutti dentro Oddio Ha preso il bomba Vero Vai adesso io Adesso io Adesso io Adesso io C'è lanciato Ma si è lanciato Sì Per questo ho detto pure l'amico È scappato Visto 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 dov'è Ho visto dove è andato Uh lancio di equipaggiamento È qua dietro? Cecchino 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 Sì sì ho visto che è qua dietro Hai rotto le scatole Sì Vai in casa Dai Tre ore Vietro avanti Avanti Indietro Ci abbiamo da fare Ci abbiamo Ah ma era No no Ma era l'ultimo Rimasto del team Perché Eh forse era un nemico No no Non era amico suo Perché Mi hanno guardato in quattro Quando l'ho killato Eh se Comprate Wav voi Dai dai Noi in realtà Dovremmo andare Dovremmo andare qua Dovremmo andare qui Regà Datevi i soldi Tommy dai i soldi Lo prendo io Dovremmo andare a prendere il lancio Vado a prendere l'auto Arrivo Ma non c'è Non c'è Non si può prendere Ha preso lui Forse Vabbè io un altro Wav ce l'ho Cucù Aia E niente Vai ci sono Salite salite Sali Sali Eh mo come si scende Da qua Mannaggia Tutto Dopo nel frattempo Metti una tua canzone Per favore Metti Mettila tu C'è sta la rata Accendi tutto Accendi Vai vai Pomba stai Casse Bouse 300 metri No Leva il ping È buggato Ti mette la cosa Dall'altra parte Perciò non pingo mai Il lancio Eh vedi che te la butta Dall'altra parte Non c'entra niente Eh sì Perché è buggato Ce n'è una a sinistra Più vicino No quando mettete i ping Sulle casse Sono buggate Ve li date Dall'altra parte No io sto vedendo la mappa No no sto vedendo la mappa Ah no ok ok Questa è la classe Yes Vai Taglia di là No vabbè Mò butto Vabbè Vediamo che succede Salite salite Ok Uh Faccio rubiscotto Tutti osservatori Sanno Sì ma là ci moriamo Se saliamo Anche perché poi No no È un macello Il macello Cerchiamo di Vedi l'altro lancio Ce l'abbiamo Qui a sinistra Eh lo so Vabbè ma che ci serve Uh Qua dietro Qua dietro L'ha pingato Sì sì L'ha pingato dietro Eccolo Eccoli là Eccoli là Sono in mezzo alla strada Fuoco fuoco Miglia che gli avete combinato Attenzione Sotto il ponte mi sa Sotto il ponte mi sa Sì Che è successo Dove sei morto Vai 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 L'ha fatto Ok ok Va che gli avete consegnato a quello Trin trin Eh raga io non ho più piastre C'ho la cassa Ah c'ho la cassa A posto No è sopra il posto Scusami Mi la lasciata lì Ah Vuoi vedere Dov'è Dov'è Arrivo subito Si sta scaricando La batteria della macchina Vado a ricaricare Vabbè venite qua Sto riparando l'auto No no venite qua Ragazzo C'è un'altra maschera Penso che ce l'avete tutti Sì io sì Ho cassa muni dopo se vi serve Portala se riesci portala via Sì sì la sto portando Qua c'è un attacco Con il mortaio ci volete che non ho già uno io Uno Sono rimasto incastrato con la macchina Venite venite in macchina Venite in macchina che la safe qua subito Veloce Vai Io non so perché mi vedo Infuocato Eh si è buggato Sgava acqua Eh perché c'erano Eh c'erano i proiettili Infiamabili Eh si bugga Sì Eh oh cazzo I bot I bot Ma che ci fa il gommone In mezzo alla strada Avete visto No c'è gente C'è gente C'è gente C'è gente Cerco di comprarlo Vediamo se me lo fa prendere Me lo fa prendere Lo tiro eh Vai Oh gente dentro Gente dentro C'è gente Atterrato pure l'altro Mamma mia Sono due Sono due Sono due di fronte Ho fatto una cazzata No ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Dove ho piastrare A terra Baggins Uomo a terra Ti preso Uè scatemi No Ha fucinato È lì Diciamo Buono Stavo Mi giro Alto No Quello in fondo No Eh ho visto quello in fondo Un altro team che è arrivato Ti devi autoressare Non te posso dare una mano Vieni via Vieni via Tommy E' arrivato un altro team Capi? Cazzarola Rompare i coglioni Devo ricaricare Uno per dieci Per dieci Riuscire ad restare Quanta avevi tu? Eh sì Io avevo la foresta eh Eh io ce l'ho Oh What? Grande No da dietro Dietro dove? Dietro l'auto? Eh sulla casa No sulla casa Sulla casa Qui sto Wow Esagerato Minchia Ma quanti sono Dai Niente Non posso aiutarti Devi venire dentro Pieno Eh Anche dietro Anche verso l'acqua Assurdo No Usciami Strono Dai Puga a destra Oh ma da dove Tutti i lati Sì vabbè Questo città Cento Cento Dai Mortacci tua Guarda Guarda No No Beggins No Beggins Lo dovevo segnalare C'era un pezzo di Di Annaccio Scusa Non mi ricordo come si chiama Lo stavo guardando Ha girato la visuale Ma ha sparato diretto Cittava 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 Cento Cento Quello Perché non era Quello Se vai Nelle lobby Eh Non mi ricordo come si chiama Obbilecente Era pure alto di livello Lo dovevo segnalare Fra O comunque bloccare Che schifo Fra Girava la visuale Da Cioè si vedeva proprio Che era computerizzata Dicevo io Ma come fanno a prendermi Da tutti i lati Eh invece Mi ha ammazzato un tizio Che sicuramente Cittava sopra il palazzo Vabbè Lupo Una domanda Come mai Non mi fa scaricare caldera Mi dici di pagarlo Buono Paga Paga Vuoi giocare caldera Paga Paga No non lo so Sinceramente Mi sembra strano Comunque Si sarà buggato E Io sincero Non mi Non l'ho provato Cioè non Non so tornato a giocare lì Perché caldera proprio Non mi piace Però Boh Anche qua Prima si era buggato Una settimana fa E per sbaglio Diceva che dovevi pagare Per giocare Però poi l'hanno sistemato Con un aggiornamento Io credo Che Sia un bug Momentaneo Come era successo qui Perché è gratuito il gioco E ripeto Era successo anche qua Secondo me lo devono sistemare Ci sarà stato qualche aggiornamento Che hanno fatto Che per sbaglio È uscito Che devi pagare il gioco Ma Non lo pagare Perché è gratuito Aspetta che risolvono Oppure Non giocare Gioca a questo Nel frattempo Vediamo Entra in partita Mi sa che qualcuno qua Per sbaglio L'ha pagato Quando ci è uscito Sto problema Capito Era V8 Lazak Eh Lo devo cercare dopo Il nome del tipo Il nome del tipo V8 Lazak Ok Eh Sperando che non si toglie Dei recenti V8 Lazak Sto in fame Bello So server Eh No È trovare un'altra partita Bro Eh Lagga 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 Server fa schifo Oppure La giochiamo Con tutto Che lagga Però No È possibile Da giocare Esci 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 con tutti Baggins No Non si può giocare così E trovare un altro Perché Veramente Vedevo tutto a scatti Vedevo impossibile Così giocare E Taratara Taratara Qual è la mossa finale Di Bundle Pogba Affronta ogni nemico Con il bundle Paul Pogba Ah C'è il pennec Nel bundle De Paul Pogba E poi c'è sta questa qua Che è l'HCR Poi c'è il quodo Poi c'è il 10 di Pogba E c'è Sai che l'ultimo personaggio Che vorrei prendere C'è proprio Pogba Gli altri due Non Non dice niente No Neimar Non è malaccio Col cappellino Coso Però Pogba E' bello E' fatto bene Messi è fatto a cazzo di cane Non capisco perché Messi si Messi è fatto proprio male Pogba La fenne Che Eh Allora Però Messi C'ha Che c'ha come armi La Vaznev E E' L'Uricain Belle Eh C'ha le armi belle Dentro Il pacchetto Però lui è fatto Proprio male Non mi piace Invece Pogba C'ha C'ha Fa le cose fatte bene Però No Va bene Non lo so Non lo piglio No C'ha la La Vaz E La Allora No Le armi più belle Sono quelle di Messi E Pogba Ok Vamonos Io l'ho fatto Quattro e mezzo Oggi è ancora mal tempo Eh sì Eh vabbè Random Che la nocce Quando Gli erediti E io So Io Che Mundo Da 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 Che è Successo Qua Sendo Doppio Uè Luca Del Sordo Vdf Buon Pomeriggio Ah Peccato Po' lento a mirare così sto cecchino Devo trovare Devo capire qual è quello là giusto Oh True La dentro casa mia questo Sembra Vabbè Ma così Stasera Buon lavoro Buon lavoro Oppure io faccio l'ultimo E vado Allora andiamo tutti sul treno Visto Quelli Come si cedera Arrivo eh Andiamo lì Andiamo lì Ma mo Piera chi sarebbe Il gatto Il cricetino Il uccellino Che non mi ricordo Versaglio in campo Al lavoro Io ho l'altra Chi è il verde Tommy Qua c'era uno Ok ok Già Incomissionare l'altra Io sto andando a questa Ti vado la cassa A me A me Sì Andando Che Bibo Baggins Che non lo so Ti sta chiedendo la roba Lo senti a Baggins Adesso Vai all'altra Vai all'altra Ah diceva Vai all'altra tu Vai all'altra lui Che lui fa quella Credo Vabbè Mi sa che ci arriva Tutte e due Stiamo vedati In una lobby Di spagnoli Comunque Da quello che sento Li sento Li sento Li sento Grazie Abbiamo finito il contratto Cici ragazzi Cici Ma quando finisci il contratto Fuori di testa Io il Wab ce l'ho Mi compro un attimo un'arma Faccio la traia Io faccio Tec 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 No Oh che cazzo sta succedendo Ti hanno pushato Raga Sì qua A terra A terra uno A terra dalla finestra Uno sul tetto A terra un altro No A terra uno Al secondo piano Come caccio si sale sopra Amo al secondo piano Da qua da qua Maledetti camperonio Elinguendi Vami A posto Poi ce l'avevano quasi fatta Cioè C'hanno Non si sentiva niente Ci hanno sparato sul carrello Chi l'aveva visti Vabbè Andiamo alla taglia E se c'è Ah c'è c'è L'avevamo già presa Sta lì Turbo brondolo Vai turbo brondolo Vai Attenzione Perché ci sono le roccaforti Bro Non siamo vicino A cosa di botta Attenzione Perché Non mi ricordo Sì mi pare che qua Stavano i botta Da questa parte Vabbè Io piglio l'aereo No Perché sei sceso Sali Vai Però pure la cosa Che non vuoi ricaricare Quando fai sul veicolo Eh Sì Ma non dobbiamo aggiustare Parecchie cose Pure il fatto che Non puoi stoppare la ricarica Una volta che la cominci Non ha senso Scendi Scendi No mi scendi Nooo Quackizzo Ritorno Sì Sicuro che torni? Sì Sicuro Quanti erano alla taglia? Erano uno? C'è sta una saccoccia qua dentro A chi serve? A Salvatore serve Ci sta una sacca Per fare questa qua a terra C'è anche una cassa covazze qua Eh prendetela No No C'è uno al carrello Oddio dove è camberato E' qua proprio qua di fronte al carrello Lo vedi salvato da dove stai tu Sì Sono italiani Mi hai fatto tu Tommy? Uno? Sì Questo qua dietro è killato? Stava a essa eh Gigi Ti mani andato Ti mani andato Vai vai è finito È finito È finito È finito Tornato pure a Baggins Come chiamo Baggins Quanta gente c'è Guardate il radar E' pieno di gente E' pieno di gente sul palazzo C'è la sacca lì? C'è una data il lupo? Eh lo so Non so come cazzo Si va dall'altra parte No 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 però No però sei un gioco di merda Sei un gioco di me Ma te lo devo dire No Si è bloccato di nuovo Però non si può Non si può Così Non si può Mannaggia Mannaggia i creatori Si è bloccato Niente Si è bloccato Vabbè ma come si fa Fra Niente Niente Non si può fare niente Sì Eh vabbè Eh riavvio Anche se C'avevo l'ultima da fare Nel senso Vabbè La rifacciamo Non vale Dai la rifacciamo Però Che cavolo Eh lo stava girando male Avevo comprato l'arma Avevamo fatto fuori Alcuni team Vabbè Vabbè E riavviamo Andiamo Andiamo Ok Ok Ma loro non so se stanno ancora in partita Penso di no Però Ok Ah eccoci qua regà Che schifo però Che schifo Niente si è Si è bloccato E ce ne sei moccato Che non c'eri tu Eh Si è crashato il gioco Un'altra volta Guarda È una roba assurda Non si può giocare così Si si faccio l'ultima Faccio l'ultima Italo Faccio l'ultima E poi vado In realtà la stiamo facendo l'ultima Mi è crashato il gioco Eh la rifacciamo adesso Sono un bravo ragazzo Com'era Surirà Sono un bravo ragazzo Un bravo ragazzo Eh partì la canzone Eh Ah Sono un bravo ragazzo Ah Un po' fuori di testa Un po' del mondo Uh È partito random Speriamo che non laggamo Vabbè vado in bagno nel frattempo Arrivo subito regà Vado in bagno mentre start Eh Arrivo Vado in bagno nel frattempo Manca poco allo schieramento Riscaldatevi Riscaldatevi Io ho 120 di latenza Cazzo Ci avremo bene Cazzo Stai ragazzi Mamma non c'è Stai arrivando C'è gente Vai 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 Ma come cazzo si fa Vai vai Un altro da me Arrivo Ah ma lupo non c'è C'è sta morendo Ci sei tu? Io sto parlando Ma sto laggando di brutto io Anch'io Io sono morto Eccomi No sono morto Sono morto Raga raga Fatte tutte Fatte tutte Eh vabbè Non lo rivedrai più Ah era in bag Mamma mia Cazzo era in bagno Regà non ce la facevo più Caga raga Eh forse mi sa un po' Sì E vabbè ormai giochiamo Eh io sono al gulag No vabbè Stavo Stavo cagando Lo dico sinceramente Non ce la facevo più Stavo pure cagando Soldati Siete in quattro Nella mia arena Gli ultimi due superstiti Se ne andranno Fate E' ora D'uccidere Oh Dai Non ci credo Ma ho sparato Mentre facevo la scivolata Mi butto il pad in aria Qualcuno deve morire subito Combi ci sei? Sì sì Ok Giaccando Dai 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 No 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 spara Mannaggia la miseria Non deve sparare il juggernaut Mamma mia Che ho beccato nel gulag Dai Madonna Nel compagno di Ho beccato due contro Bravi a giocare Poi ho beccato Questo Però non si manco Spara Io però Era destino Quando si è bloccato il gioco Che dovevo fermarmi No Dai rifacciamo Aspetta Aspetta Abbiamo No Rifacciamo Aspetta Chiudo il gioco Rifaciamola Rifaciamola No No Sbagliato Sbagliato Che è successo? Ehm 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 Non si avvia più Facciamo così ragazzi Allora Ecco qua Riavviamo Ok andato Eccoci qua L'ultima Sperando Di fare La vittoria Con l'ultima Fatta bene E poi ci becchiamo Stasera Però se devo chiudere A che ora Stasera Poi faccio sapere A che ora Non lo so Perché stasera Dobbiamo giocare Io ho gattuso E due ragazze Però non lo so Non lo so A che ora Forse Beh beh Penso nove e mezzo Ehm Ecco qua Allora Facciamo Fatta bene La serie Allora Eccomi Ci siete? Sperando che non lagga Vediamo se sale troppo il ping Attenzione 43 E lagchiava comunque pure questo server Che palle Ma fino adesso andavano bene Più o meno Adesso sta iniziando un po' ad essere Sta trovando ping alti O sta giocando poca gente Quindi ci sta trovando server più lontani Non lo so Ok l'ha trovato Eccomi qua Ragazzone poi ci ribecchiamo stasera Facciamo l'ultima fatta bene E poi a stasera Arrivo subito eh Avere datemi un secondo Andiamo 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 Ciao Michelangelo Michelangelo Eccomi La famosissima ultima fatta bene L'ultima e vado Da quando è che lo sto dicendo? Da più di un'ora già È normale L'ultima L'ultima e si va Ma l'ultima non arriverà mai No no dai Questa la famo bene dai Pachito baby Ehm Ma sembra non c'è male Ma ha dato uno strappo di lag Però Non è male dai Aspetta ieri Harry Potter In aria No questo è Harry Potlet Cosa? No mi dissocio Cosa significa? Non mi chiede qualche parolaccio In un'altra lingua Dove andiamo? Au Dove vuole? Vai loco vai Ehm Andiamo Eh sto pensando Un posto Che non ci faccia diventare pazzi Che possiamo fare Qua Eh quello vorrei lontano 1200 metri Andiamo qua giù Let's go bro Vamonos Tendolo Arriva qualcuno con noi? Ah sei proprio sicuro? Oh madonna Dove avevi pingato tu S'ho sceso Una marea di loro Guarda là Dall'altra parte Guarda quanti sono In volo Mio dio Meno male Che ho detto No andiamo qui Meno male Che era una zona tranquilla Eh no Io ho detto C'entriamo prima Qua Però qualcuno di voi Qualcuno di voi Ha pingato in fondo Ah tu avevi pingato in fondo Eh va bene Una zona tranquilla In fondo Sì sì Sono scese 12 persone Io vado qua A fare la Contatto Aia Faccio l'altro Contratto io Michelangelo No non c'è sta Non c'è sta Autoress qua dentro Le BR Eh no Questo pare brutto però Oddio dipende Let's go Mi ha fatto tutto Dal carrello Ma non siete voi What È arrivato un team È arrivato Raccato No Eh dai Raccato lì dietro Chi sopravvive Si guadagna Morito Destra Eh No da dietro anche Sì Eh sì Vabbè Dai Ma che cazzo Succede Regà Non fatti i due Che sta succedendo Capito che due Compravo avviva Spagna Se sopravvive Tornerà in azione Uè Ciccio Vai 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 Andiamo 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 Ah Sta qua Sopra Uè Ciccio Buon pomeriggio Buon Natale Ciccio Come va Aspetta che sto fuciando uno È sceso Dai Come noi Ah eccolo 3 2 1 Let's go Oh è qua uno Con colpo Quante forti le BR Eh ma che cazzo È che non va danno a terra Noi Sì Buon Buon Vai Vai Dai 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 Salvatore Tu hai perso il VULAG Arriviamo 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 Aspetta che c'è L'amico Ah c'è ancora l'amico Che combatte Ciccio Perché X X Ciccio Pappacena Signora Prenda Prenda Eh datemi i soldi Dai lo restiamo Venite 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 Pronto C'è di c'è di c'è di c'è di Arrivo C'è la parte Solo di Tommy Vai Vai Mbapp 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 Ah Dove andiamo Cosa facciamo Non lo so Non lo so Non possiamo fare niente Contratti C'è una taglia di qua E comunque Quelli che abbiamo killato Dai quelli là Dove sono quelli che avete ucciso Stavano la terra Stavano da prendere la taglia Ma secondo me Non finisco male Dai andiamo 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 Il ciccio Con la stella E ciccio Non c'è più Mi sa There are so many bugs under my eyes Ma ora hai scoperto che è pieno di bug Auguri Andiamo Andiamo Sto prendendo la taglia io Adesso l'ha scoperto che è pieno di bug Mi sparano Dov'è la taglia? Dove ti sparano? Dalla vostra direzione Dalla vostra direzione Ma non è possibile Sei sicuro? Sì Sentito scoperto Prendiamo dalla taglia Andiamo dalla taglia allora All I need It's no Tonight Va bene Ehm Questo è di qualcuno Sono i bot che scendono Ah no Sono i bot Sono i bot Sono i bot Ritirata Via Via No Per il momento Altra gente No Regà Guardate che quelli sciolgono Andiamo via Andiamo via No Non ho trovato più gente sotto la mappa Ma secondo me Mi sono guardato Ma regà la tagliala da qua È impossibile Eh bu What? Che sotto la mappa è? No Non me lo dire Fra No Non è possibile Che la dà qua È qua È qua È qua Li sento parlare Qua dove? Eh Lo sento parlare da me Fra Questo secondo me Questo secondo me Sta sotto la mappa Non è possibile Ah ok Lo sento parlare Fatto Eh no C'è un altro qua Oh Chi è qua? Salvatore Dai Dai Aiuto 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 Ah no Mi sono sparato la cosa Ok Eh C'è un altro Mi sono sparato la siringa Sparati Sparati Ma veramente Erano in tre Qua dentro Ma Non ci voglio credere Ok Dai 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 Lo stavo messi male Abbiamo i soldi Poi dobbiamo andare Torniamo allo shop Dove eravamo prima Regà Dai Andiamo Erano tre chiusi in casa Che c'è Che schifo Madonna Quando giocano così Avevano freddo Quando giocano così Sentivano freddo Eh Come lo dicevano Andavo allo shop Compravo giubbottino Compravo Un pellet Un pellet Un pellet Un kit Un kill Un che? Un kit Un kit Non lo so io Un kit Che cosa Kit? No Vabbè No Mi dissocio Mi dissocio anche io Allora Ho preso la mia arma Quella proprio bella Stop E purtroppo Wabby non si può comprare Che è già Stop and go Non si può prendere Wabby l'ho già preso Quindi l'unica soluzione Regà Prendete qualche arma Personale Vado Vado a prendere la taglia A nuoto Mi lasciate qualche soldino Prenditi tutto bro Prenditi tutto Mi lasciate qualche soldino E vi prendete qualche panzarottino Sto qua e toglie Ok grazie Anche io te l'ho lasciato Ok grazie 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 Ho preso Io vi ho lasciato No non c'ho niente Non mi posso lasciare niente Sto cacchio Esatto Bravo Pronto Uè Luca e Simona Luca e Simona Luca e Simona Luca e Simona Lupo e lupetta Bella Luca Bentornato Vediamo c'è un po' C'è un po' di roba Mazza che l'hanno bombardato al lupo eh A me l'hanno bombardato No No Ho visto passare gli aerei Dove sei re? No no E non hanno tirato niente qua Però mi sa che hanno fatto Uab nemico forse E lasciate 2000 Dal cavallo Che panno un'arma Vai vieni 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 Però un Uab Se c'è qua Lo prendo Perché mi pare Che l'hanno chiamato Sì sì ci stiamo Ci stiamo Tanti giorni Ah che culo L'ho trovato a terra No ok Quella è la roccaforte Dietro dietro Vieni qua Ti lascio i soldi Mille mille Dove eravamo noi sono? Eh sì C'è qualcuno dietro Non ho preso più L'uab alla fine Perché l'ho trovato a terra E quella è andata allo shop Sì E c'è pure un aereo sopra Mi sa Adesso sono diventati Due Sì ha arrestato Tre E' tornato tutto il team A questi Oh ti scende uno sul carrello Vi è sceso uno in testa Regà Vi è sceso uno sul carrello vostro Forse hanno attivato qualche missione Là da voi Non vedo più Wav nemico in volo Wav nemico Io so con te Che sono dietro Eh Ci hanno visto Perché ci hanno il Wav Attacco Attacca grappolo Che è con me Vai via Salvato Bastardi Eh Servirebbe un altro Wav Non capiamo così Non si può pushar così Eh Solo tu lo puoi comprare Che c'hai soldi Eh Sotto andando a prenderlo E loro non sono riusciti a beccare Quello che è sceso da loro Che è un amico di quelli Era sceso proprio da voi Regà Era sceso qua Ho visto in volo Che si buttava su di voi Sul carrello Eh Ma non lo so Bucchi Oh Qua Qual è È Scasso Scasso Fatto Eh Io ho visto l'altro Dove è andato Eh Hanno la cassa forza Qui Abbiamo La cassa Eh lo so Stavo cercando L'altro tizio Sì Oh Oh Fatto Tieni lupo I soldi Tra la cassa Vabbè anche lui qualcosa Vedete Ok Vado sia a restare E gli amici Sono indietro Dove eravamo prima Quell'altro carrello Eh uh Stai murendo Si sentono Stai murendo Si sentono Nell'audio Chi? I nemici Quali amici? Oh Chi è che mi ha sparato? Eh bravo Eh bravo Ah sono i bot Ah sono i bot Niente 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 Vieni No ma si sentiva l'audio Uh Hai visto dov'è? Amico Qua sta Su Come cazzo Fatto a terra Ma mori E l'altro è sopra E sopra L'altro è sulla torre brodi Mannaggia zio Pippo Ah no è sotto È sotto È sotto È giù Sotto È sotto Eh ma questo mosso È sotto Lo dico io È salito su Fra è salito su Sicuro Cento per cento Uh ha tirato il lancio Confermato Longbow 3-1 in zona O si butta Vediamo se butta da sopra la torre In teoria No No Però io ho tirato il bombarda Vabbè Dove ha tirato i lanci? Gulo Andiamo ai lanci Dai andiamo ai lanci Uno l'hanno preso Qui l'hanno preso Andiamo 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 Pronto? Pronto? Chi è che è dietro? Beh kids Arriva 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 L'abbiamo proprio qui davanti Eh L'hanno preso anche di là Eh Li hanno presi Li hanno presi La maggior parte li hanno presi Eh Quello là L'hanno preso Ci deve stare un team qui Perché hanno preso il lancio Sta qua sopra Il lancio Attenzione Attenzione Ai nemici Eh Andate al carrello Arrestare Vabbè Salite sopra subito Dobbiamo andare via Arrestare Andate al carrello Sì un team è andato al carrello Oh Però se li prendiamo da qua sopra Siamo in vantaggio Che il carrello è giù Noi dall'autostrada li spacchiamo Uh C'è gente che si è buttato lì Eh ma non li prenderemo mai No Lascia gli stas Sprega le munizioni Lascia stas Spregate le munizioni Regà C'è gente qua in teoria In teoria c'è gente qui Però non li vedo Voi vedete qualcuno? No No Qualcuno ha un uav? No Neanche Uh macchina macchina Qua sotto qua sotto qua sotto Scendete Butto butto il bomba Butto un bomba Uno qua Open E gli altri due in casa Poi gli spacco Poi gli spacco l'auto a quello Hai fatto quello lì Che crossava? Fu O si è messo dietro il sasso Uh chi è che mi ha sparato dietro? No No cecchini alle spalle Attenzione Cecchini alle spalle Ah perché c'è il lancio lì Dai che palle sti cecchini Begginz No salvatore che hai fatto? Ah perché c'è l'attacco a grappolo Che casino C'è l'autostrada Begginz Non riesco a arrestarlo io Begginz Mi stanno spaccando da dietro E niente Mi hanno cecchinato Che due coglioni Ah mannaggia Però sono in teoria safe Qua dietro Dietro sti No devi correre Devi correre Devi correre Devi correre Che te beccano lì Te beccano Buttati giù Buttati giù Eh mi hanno confermato Ah c'è il gulag Assun Tommy ho chiesto C'è gente a destra Che c'è il lancio dietro di te Non si può stare sull'autostrada Sì ma tutti si cecchini Da dove? Boh No si può stare sull'autostrada Che c'è il lancio dietro di te Che c'è il lancio dietro di te Ok Non mi fa combattere Il gulag E mo la finisco Stanno killato C'è Ma c'è chi Ah ma sul ponte Non resta nessuno Niente mi ha fatto nascere senza fare niente Eeeh Ehi Sono tutti qua Dove 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 Lì Ma noi siamo morti lì No c'è morti prima un po' Sull'autostrada No c'è morti qua C'è pieno qui Oh ma fanno uscire fuori dal gioco Dove era il loadout Se è possibile prenderlo qua Dove cacchio sarà un filato Ah eccolo E' un tizio qui che vuole provare a prendere anche lui Qua non c'era un lancio regati Qualcuno che stiamo busciando da sopra l'autostrada Sì sì dove sono morto io Però era fin dietro Dove era? Era fin dietro Fin dietro Qui? Ah qui non c'è Sì più o meno questa zona è qua Era sì No Sulla casa c'è piena qua Ah è qua? Guarda la casa qua che c'è piena Vabbè dove sono morto io tipo Qua Ah no no Live avevo capito Vai nella casa lì Madonna Madonna Ah no 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 non devo fare una corsa qua dentro Why? Non c'è più niente No Vabbè Vedi tiro la granata No non c'è un'arma Uh Guarda che sul balcone c'è pieno di loot Aspetta c'è uno sopra E invece noi dall'altro lato No No Ah bello Peccato Ah ma erano quattro Erano quattro Eh c'avevano le armi Minchia Eh c'avevano le armi Peccato 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 Vabbè raga Eh io vado Io vado Anche Anch'io grazie di tutto Di nulla Di nulla Alla prossima Bella ragazzi Ciao a tutti Un bacione Un bacione Ciao Buon pomeriggio Buon pomeriggio Bella bella Alla prossima Vabbè ragazzola Allora ci vediamo stasera Sicuramente Con le due Due pacchiotte E con Gattuso E me Ci ribecchiamo stasera Penso nove e mezza Vabbè al massimo Oppure se vengono dopo Iniziamo noi E poi dopo ci raggiungono Vediamo Ci becchiamo più tardi A stasera Allora ci vediamo stasera Allora ci vediamo stasera Allora ci vediamo stasera Grazie a tutti